Riprendiamo i lavori della sessione pomeridiana affrontando un argomento dal titolo tutela del risparmio e ruolo dello Stato. Sicuramente l'argomento della tutela del risparmio e del ruolo dello Stato è un argomento denso di implicazioni teoriche ma che dall'altra è anche una ricaduta pratica sicuramente rilevante, si passa cioè dall'analisi dell'architettura normativa all'analisi della fattispecie, quindi ciò ci porta in una prospettiva che è quella del diritto vivente e anche in un certo modo quella del contenzioso. Io vorrei però fermare qualche nota di carattere teorico prima di dare la parola agli ospiti qui presenti, ricordando anche se il tema è già stato evidenziato, come vi è una intima correlazione tra la disciplina del bail-in e più in generale delle risoluzioni bancarie nel meccanismo di risoluzione unica e la disciplina della normativa finanziaria. Nel senso che vi è una sorta di connessione sia operativa sia per finalità, se si considera che il ricorso alle azioni e alle obbligazioni subordinate per coprire le perdite costituisce l'elemento condizionante, la precondizione per la soluzione ordinata della crisi. Quindi in altri termini l'azionista e o l'obbligazionista subordinato si assume il rischio dell'impresa bancaria e l'assunzione di questo rischio sta alla base del buon funzionamento della disciplina del bail-in, per usare un'espressione di sintesi, il che significa che se non funziona la normativa finanziaria molto difficilmente potrà funzionare, almeno in prospettiva economica, quella che è la disciplina del bail-in della risoluzione bancaria più in generale. Ecco, fermate queste note, va ricordato secondo me nuovamente quali sono le finalità della nuova normativa che ci ha occupato oggi e che è stata affrontata sapientemente dagli ospiti che mi hanno preceduto. Ma allora sicuramente vi è una finalità politica che forse è quella più, non dico condivisibile nel merito, però è quella più chiara, più netta, sulla quale si può discutere ma è una finalità che affiora evidente, cioè quella di evitare gli aiuti di Stato, cioè l'idea che sta alla base del bail-in, almeno l'idea politica, è che l'aiuto di Stato è incompatibile, è in contraddizione con i principi fondanti, un'economia di mercato e come tale è una strada, una prospettiva che non può più essere seguita. Questo molto semplicemente, c'è chi vi è d'accordo, c'è chi non lo è, però questo rimane sicuramente il primo obiettivo credo che muove il legislatore e che ispira la nuova normativa. Il secondo profilo è un profilo tecnico, un profilo economico, semplificando la nuova normativa si dice dovrebbe reagire a quei fenomeni di opportunismo, di azzardo morale che stanno alla base della socializzazione delle perdite di una crisi bancaria. In sintesi estrema, se le perdite di una crisi vengono distribuite, di una crisi bancaria, sulla collettività, vi è una sorta, almeno questo è lo schema di ragionamento giuseconomico, di garanzia implicita che induce gli attori, le banche in primo luogo, ma anche gli investitori in seconda battuta, a tenere dei comportamenti opportunisti e dei comportamenti non efficienti. Nella prospettiva della banca si dice essa si assume dei rischi non necessari perché comunque nell'ipotesi di perdita quel rischio verrà distribuito all'esterno, quindi non ci sono delle conseguenze. Nella prospettiva degli investitori si dice che la garanzia implicita che deriva dagli aiuti di Stato riduce quello che è l'investimento in precauzioni da parte dell'investitore che nella valutazione di quelle che sono le strategie di investimento non pone quella diligenza necessaria per poter orientare correttamente le proprie scelte strategiche. Ora, questo schema di ragionamento a me pare condivisibile da un punto di vista teorico, ma indubbiamente è un modellino che parte da un assunto che è quello tipico della teoria economica classica dell'homo economicus e che quindi dà per pacifico che l'investitore sia un investitore razionale, che sia un investitore avverso al rischio e che quindi ci siano quelle condizioni di efficienza informativa, di efficienza allocativa che le evidenze empiriche hanno dimostrato non sussistere nei mercati finanziari. Cioè i mercati finanziari non ci consegnano nemmeno un'efficienza in forma debole. E questa considerazione mi lascia pensare che le parole che ha usato Francesco Capriglione nel paper che ha consegnato questa mattina e che sarà pubblicato su diritto bancario sono piuttosto illuminanti. E ne riprendo due passaggi per concludere il mio intervento. Francesco Capriglione scrive, sembra che il legislatore europeo presupponga l'esistenza di un mercato maturo ed efficiente, tale da rinvenire al proprio interno in caso di crisi i rimedi necessari per il superamento di quest'ultima. A monte di una costruzione ordinatoria si fatta deve configurarsi la presenza di una categoria di operatori pienamente consapevoli delle scelte di mercato da essi effettuate. Ora è chiaro che sulle orme di questo spunto possiamo sostenere che le tecniche di distribuzione dei prodotti finanziari nel mercato primario e le tecniche, le regole che vanno a presidiare le modalità di negoziazione nel mercato secondario sono prodromiche ad una ordinata soluzione della crisi. In altri termini la disciplina della MIFID, per usare un acronimo, diventa la cartina di tornasole delle procedure di Bailin. Quindi tanto funziona la procedura di Bailin quanto funziona la procedura della MIFID. Cioè nel senso che nel momento in cui funziona la procedura della MIFID l'investitore, l'azionista, l'obbligazionista di cui si è discusso evidentemente, si è assunto dei rischi in maniera consapevole e quindi contribuisce a quella soluzione interna della crisi che sta alla base del funzionamento della normativa europea. Ecco, nell'oggi i dati che sono stati raccolti con riferimento alle quattro banche italiane di cui si discuteva sono piuttosto desolanti. A me pare che tutti i relatori che ci hanno preceduto e che hanno sicuramente una prospettiva anche privilegiata non abbiano preso naturalmente una posizione netta, non lo ha fatto naturalmente De Polis, la Banca d'Italia, non lo ha fatto il commissario, il professor Santoni. Però insomma è affiorato che nel caso di specie probabilmente le modalità di distribuzione delle obbligazioni subordinate, prima ancora che delle azioni, alla luce dei dati che sono stati riportati, si sono consumate in un contesto che non è quello di simmetria informativa che sta alla base del buon funzionamento della disciplina del bail-in. Come dire, probabilmente taluni, non voglio generalizzare, degli investitori chiamati a rispondere con il loro patrimonio della crisi bancaria che ha interessato le quattro banche e che ha anticipato la disciplina europea, lo hanno fatto in maniera inconsapevole, cioè si sono inconsapevolmente esposti al rischio di impresa. È chiaro che se così fosse probabilmente i costi sociali della riforma sarebbero maggiori rispetto a quelli connessi ad una socializzazione alle perdite. Però qui mi fermo e do subito la parola al professor Raffaele Lener che si interrogerà sul rapporto tra Bailin e Mifid e riprenderà per l'appunto queste regole a cui ho fatto riferimento. Grazie, Raffaele. Grazie, grazie al professor Sartori, grazie per l'invito. Rapidamente su questi temi e queste provocazioni contenute in questa introduzione. Ma certamente la disciplina di cui parliamo oggi ha un impatto evidente sul tema generale della tutela del risparmio, direi in secondo modalità e con incidenze imprevedibili fino a qualche anno fa. Un impatto che va misurato oltre che sui piani tradizionali, direi più tradizionali del diritto bancario, cioè trasparenza, pratiche commerciali scorrette, anche su altri profili di disciplina, in primis che delle regole di condotta. Ma prima ancora direi sul piano culturale. La premessa per una simile analisi di impatto, diciamo, deve partire da un dato di realismo, cioè la possibilità che l'autorità di risoluzione a zeri, con le conseguenze che sono state già menzionate nella prima parte del convegno, ma sui torneremo, azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari e passività, compresi i depositi, salva la cosiddetta deposit preference che sappiamo, è oramai legge e non ha senso cercare, secondo me, almeno tardivamente, di rimettere il tema in discussione, dimenticando che il nostro Paese comunque ha direttamente concorso all'approvazione della nuova disciplina e sembra un po' così tardivo accorgersi adesso che qualcosa non va e dire che ci siamo sbagliati. Ecco, sul piano della tutela del risparmio questa constatazione conduce innanzitutto a due corollari ovvi. L'ignoranza di questa legge non scusa necessariamente il risparmiatore che sia stato tradito, tra virgolette, dopo il gennaio di quest'anno. Però non è detto che non si possa invece scusare il risparmiatore che aveva concluso un contratto nella vigenza di una disciplina precedente, cioè una disciplina che consentiva al risparmiatore non azionista di insinuarsi al passivo di un'ipotetica liquidazione, penso soprattutto alla liquidazione quarta amministrativa, un po' il caso Ipo, Adria, Alpe, Bank che viene ogni tanto menzionato. Nella prospettiva dei risparmiatori, infatti, il credito verso la banca risolta, secondo la nuova terminologia, che è sorto prima dell'entrata in vigore del regime ex direttiva, viene appunto azzerato, nel senso che la risoluzione cancella il rapporto giuridico dall'ordinamento, privando il creditore anche della possibilità di insinuarsi al passivo della banca, così aggirando, se non altro, il principio della responsabilità patrimoniale dell'articolo 2740. In pratica il creditore azzerato perde non soltanto il diritto di credito, ma anche la possibilità stessa di agire in sede concorsuale ed è rilevante a riguardo che la possibilità di recuperare sia remota. Quello che rileva invece è che in nessun caso questi potrà soddisfarsi su eventuali attivi residui, come invece avverrebbe nell'ipotesi di liquidazione quattro amministrativa, cioè non pare rispettata non solo la par condicio, ma in generale il principio su cui non si può tornare ora, del no creditor worse off. In realtà la sua posizione è peggiore. Sulla questione della legittimità costituzionale, di questa riduzione, un azzeramento ai diritti di azionisti e creditori subordinati e non sorti prima del recepimento della direttiva, c'è già un intenso dibattito, torneranno altri relatori in questa tavola rotonda e non entro su questo. Meno esplorata mi sembra l'altra, altrettanto se non più importante, prospettiva della conseguenza, diciamo così, culturali, normative, rimediali rispetto alla posizione dei risparmiatori dopo il primo gennaio di quest'anno. Questo è tanto più singolare se si considera che mentre in Europa si affermano istanze diciamo favorevoli alla separazione tra banche commerciali e banche di investimento, penso soprattutto all'ordinamento francese, per una singolare eterogenesi dei fini la disciplina della risoluzione innestata in un sistema come il nostro, che è basato sullo Banco Universale, produce l'evidente effetto di ridurre drasticamente la distanza tra servizi bancari in senso stretto e servizi di investimento e questa secondo me è la nuova frontiera con cui ci dobbiamo confrontare e forse si potrebbe dire che in questo quadro muta il concetto stesso di investimento e se infatti si amplia inevitabilmente fino a ricomprendere categorie come depositi che quantomeno nel sentire comune del risparmiatore medio non possedevano il tratto caratteristico della rischiosità e la risoluzione bancaria osservata dall'angolo visuale della tutela di risparmio pone questioni diciamo di educazione, di correttezza delle pratiche commerciali, bancarie e di informazione, quindi l'educazione finanziaria diventa un obiettivo ancor più centrale da perseguire però bisogna essere realisti, non rappresenta una soluzione concreta alle questioni di breve periodo né tantomeno può aiutare a trovare soluzioni a questioni già emerse come per quelle quattro banche famose. È necessario un controllo più rigoroso in ordine alla correttezza delle comunicazioni soprattutto pubblicitarie che le banche offrono non solo al singolo cliente ma al mercato dei potenziali clienti e acquista a maggior elievo anche il nodo dell'applicabilità della disciplina condensata nel concetto di regole di condotta al collocamento effettuato da banche non solo quando collocano prodotti finanziari come certamente sono le obbligazioni subordinate ma forse anche quando vendono prodotti tipicamente bancari, depositi e conti correnti. Esigenze di trasparenza, di correttezza si impongono innanzitutto con riguardo alla diffusione delle informazioni fra il pubblico quindi penso alle informazioni che vengono diffuse prima ancora dell'informativa precontrattuale e quindi di comunicazioni pubblicitarie, di marketing di tutto ciò che raggiunge il potenziale cliente prima della vera e propria negoziazione. La questione è nota e diciamo che si pone tra la disciplina della trasparenza del tub e quella delle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprenditori e consumatori. Ci troviamo in un sistema in cui i confini tra prodotti finanziari, bancari e assicurativi va svanendo ma sul piano dell'impostazione formale noi continuiamo a ragionare per comparti servizi di investimento, credito al consumo, trasparenza bancaria, servizi di pagamento e forse sarebbe giunto un po' il momento di far chiarezza perché queste esigenze il mercato già la percepisce e la mia impressione è che ci si stia adeguando anche al di là di vincoli normativi che ancora non esistono. Non può essere sfuggito a chi oggi partecipa che nella pubblicità delle banche più recenti si comincia a parlare di coefficienti di patrimonializzazione e anche di common equity tier con riferimento ai ratios. Del resto quel che vuole sapere oggi il risparmiatore medio a prescindere dalla natura bancaria o finanziaria del servizio che viene o del prodotto che viene offerto è se la banca sia solida e le banche che hanno buoni coefficienti di patrimonializzazione hanno già compreso che questa leva pubblicitaria può essere vincente. Siamo a tretto e allora sottolineo uno spot delle casse rurali trentine che invitano i risparmiatori a investire nei loro prodotti spiegando cos'è l'indice CET1 cioè il rapporto patrimonio e insieme delle attività ponderato per il rischio spiegando che l'indice medio delle banche italiane torna a 10-11 e che l'indice delle casse rurali trentine lo supera molto attestandosi intorno a 15. È una forma di comunicazione nuova, certo qui utilizzata a fini chiaramente promozionale di marketing ma che sta dando delle informazioni di cui probabilmente il mercato ha bisogno. È una nuova frontiera pubblicitaria che se usata con correttezza secondo me contribuisce a un'informazione corretta appunto però c'è da chiedersi se ciò sia sufficiente a fare chiarezza o se il mercato anche pubblicitario vada regolato per evitarne un uso distorto di messaggi del genere se non sia il caso di rendere comparabili questi messaggi in ultima analisi anche quale sia l'autorità competente a intervenire in caso di abusi o violazioni cioè se è un tipo di vigilanza che deve aspettare alla GCM che vigila sulla forma o se possa invece essere effettuata dalla Banca d'Italia che a quel punto può entrare anche nel merito della veridicità delle informazioni. Ora se è vero che il cliente della banca può essere un investitore con conseguente applicazione delle regole del tuffa al rapporto di investimento è altrettanto vero che si tende a ritenere che se non sia propriamente un consumatore in senso stretto anche se molte norme dettate in materia di pratiche commerciali scorrette o pubblicitarie ingannevole si riferiscono espressamente anche all'attività bancaria penso all'articolo 21,3 bis del codice del consumo se una pratica del genere è scorretta altrettanto potrebbe essere in concreto una pratica con cui la banca all'atto dell'apertura di un conto anzi direi a maggior ragione in qualche misura obblighi, forzi induca il correntista inesperto a acquistare anche un prodotto finanziario complesso emesso dalla banca stessa. E quest'ultimo esempio secondo me è interessante perché dà la misura dell'irrazionalità di alcune sovrapposizioni di disciplina infatti questa situazione condurrebbe non già ad una violazione della disciplina di tutela del consumatore ma a una potenziale violazione della disciplina dei conflitti di interesse contenuta nel tuffa. Con quale esito? Una banca che collochi i prodotti finanziari di cui è emittente ad esempio le obbligazioni subordinate lo fa agendo in posizione chiaramente di conflitto ora questo potrebbe integrare per assurdo una pratica commerciale scorretta ma in realtà non necessariamente porta ad una violazione del tuffo in quanto come ben sappiamo se l'acquirente dell'obbligazione è adeguatamente informato nei modi che diciamo recuperi i contenuti a questo adeguatamente informato oggi ci si attribuiscono. Se il conflitto è gestito correttamente dalla banca non viola la disciplina degli articoli 21 e seguenti del tuffa e se io non applico la disciplina delle pratiche commerciali scorrette non so cosa sia caduto. Ah ok. Non c'è alcuna sanzione. In questo senso la razza dell'articolo 21 del codice del consumo ed è l'articolo 21 del tuff che a parte avere lo stesso numero sembrano anche simili in realtà portano a conseguenze diverse la razza non coincide e c'è indubbiamente una distonia. Sotto un altro angolo visuale, poi mi accingo a chiudere questo intervento se si pensa al caso delle polizze assicurative indicizzate che al di là del nome Iuris vengono inquadrate nel novero dei prodotti di investimento e perciò sono assoggettate anche alla disciplina delle regole di condotta c'è giurisprudenza con un tribunale Monza del maggio del scorso che in realtà considera queste polizze non prodotti ma addirittura strumenti finanziari ecco dicevo, in questi casi viene dato a chiedersi se sia razionale una disciplina frammentaria, così frammentaria della tutela e dei rimedi a disposizione del contraente supposto debole sia esso un investitore in senso stretto, un correttista, un consumatore che subisce una pratica scorretta o tutti e tre insieme se gli viene imposto di sottoscrivere un'obbligazione subordinata insieme alla virtù di un conto corrente. Ora a mio avviso l'esperienza maturata in materia di intermediazione finanziaria si può e si deve secondo me portare migliorandola nel campo dei prodotti direttamente collocati dalle banche innanzitutto lo impone la norma, il dato normativo come è noto sappiamo la raccolta bancaria effettuata a mezzo di prodotti finanziari è sottoposta ai criteri di condotta che sono dettati per i servizi di investimento ai sensi di quanto prevede l'articolo 25 bis del TUF. Inoltre in questo senso è orientata anche l'autorità di vigilanza in materia di correttezza in una recentissima comunicazione che la Consob come molti sapranno ha adottato all'indomani della risoluzione delle quattro banche, siamo alla fine di novembre scorso che ha ad oggetto appunto i decreti di ricepimento della direttiva e in questa comunicazione Consob invita le banche a prestare la massima attenzione alla nuova disciplina della risoluzione avvertendole espressamente della necessità di valutare gli eventuali impatti delle modifiche normative sulle proprie procedure interne per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza tenendo conto delle specificità di ogni tipologia di strumento finanziario. Insomma la Consob chiede alle banche di informare i propri azionisti e obbligazionisti, subordinati e non, creditori, senior e junior ma anche i depositanti che siano meno coperti da questa depositor preference della nuova situazione e di come l'adeguatezza e l'appropriatezza di un investimento debbano anche su questi strumenti essere valutati diversamente. L'informazione sui rischi, qui davvero chiudo, deve essere offerta secondo i criteri di quell'articolo 21 e seguenti del TUF perché la sottoscrizione di strumenti bailinable comporta un rischio che deve essere compreso e valutato secondo le regole generali. D'altro canto nella medesima comunicazione Consob ricorda che restano in ogni caso ferme, laddove applicabili, le indicazioni fornite dall'autorità di vigilanza in tema di prodotti illiquidi e di prodotti complessi e come è noto la prima è una comunicazione Consob del 2009 mentre sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi e i clienti retail è una comunicazione del Natale del 2014. Ora molti dei prodotti collocabili dalle banche ora soggetti a risoluzione sono prodotti finanziari liquidi e o sarebbe meglio dire complessi. C'è una tabella che è elaborata dall'ABI che sotto questo aspetto è molto chiaro e quasi in apertura ci mette le oramai famigerate obbligazioni subordinate ad esempio. Il problema che si pone sul piano dei rimedi è chi risponde dell'eventuale violazione delle regole di condotta nel collocamento di questi strumenti. Se si tratta di violazione di regole di condotta poiché l'articolo 23,6 del TUF semplifica l'onere della prova come sappiamo invertendola dovrebbe essere diciamo più agevole per il cliente offrire la prova di eventuali violazioni e ottenere perciò il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto o tutte e due. Ciò sarebbe tanto più vero nel caso in cui tale violazione fossero compiute in relazione a investimenti liquidi o complessi proposte da una clientela retail per la disciplina ulteriore che avevamo richiamato prima. Il problema è, e chiudo davvero, che nello scenario post risoluzione per molti investitori e creditori il legittimato passivo della pretesa risolutoria o esercitoria semplicemente è sparito dall'ordinamento. Cioè non è che sia sparito, sopravvive in altre e molteplici forme good bank, bad bank, ma viene reciso come dicevo in apertura ogni rapporto tra le entità post risoluzione e alcune categorie di investitori. Quindi ci troviamo in una situazione, a mio avviso, piuttosto paradossale in cui da un lato l'Unione Europea ha disegnato tutta questa nuova disciplina del bail-in per evitare costosi salvataggi a carico, come piace dire a Bruxelles, dei taxpayers. Dall'altro però, essendo sorto un'esigenza di tutela del risparmio e quindi in qualche misura di credibilità del mercato e del mercato bancario in particolare, il nostro legislatore è stato costretto a inserire, come ben sappiamo, nella legge di stabilità ultima un meccanismo ancora oscuro per decidere con arbitrati le controversie fondate sulla violazione di regole di condotta da parte di un soggetto che non ha più la legittimazione passiva rispetto alla pretesa. In questo paradosso non è ancora chiaro chi deciderà queste controversie, sappiamo che non sarà un giudice, né chi pagherà il conto, ma di sicuro non sarà la banca che aveva violato le regole di condotta. Grazie. Grazie al professor Lenner che ha ricostruito brillantemente la normativa di riferimento ma soprattutto è arrivato io credo a un punto strategico che nella prospettiva del contenzioso poi costituisce l'essenza del problema ovvero nell'ipotesi di asserita o anche accertata accertato in adempimento nella fase precontrattuale o contrattuale l'azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni si traduce nella neutralizzazione della garanzia patrimoniale ex 2740 chi risponde? E questo è un punto evidentemente di estremo rilievo soprattutto nella prospettiva della prassi forense ed è per questo che do subito la parola all'avvocato Fiorio che si è interrogato su queste questioni con un tra l'altro articolo che ha licenziato recentemente molto molto complesso e anche orientato a dare delle risposte molto chiare. Grazie grazie dell'invito i temi che mi toccano sembrano come dire due temi separati cioè qual è la responsabilità del Goodbank o degli Entiponte e qual è la natura delle procedure di indennizzo che sono definite poi vedremo impropriamente come arbitrali sembrano separati ma poi vedremo hanno un punto di connessione non indifferente. Io partirei da alcuni dati che sono dei dati che sono stati forniti ufficialmente dalla dalla presidenza delle quattro Goodbank nel corso di incontri con le organizzazioni degli investitori e dei consumatori dall'analisi che è stata effettuata dalle nuove banche è emerso che il valore complessivo delle obbligazioni subordinate adesso lasciamo perdere per un attimo il problema legato alle azioni ammonta quasi 800 milioni 786 milioni di cui circa 431 milioni sono stati venduti alla clientela retail di questi 329 milioni di obbligazioni sono finite direttamente nei portafogli di investimento dei clienti delle quattro banche che le avevano emesse mentre 102 milioni non si capisce bene in quale momento se inizialmente o nella fase finale prossima alla crisi sono stati appunto venduti a investitori con conti aperti presso altri intermediari queste obbligazioni sono state acquistate complessivamente da poco più di 10 mila investitori che rappresentano all'incirca l'1% dei clienti delle banche di questi investitori le good bank hanno fornito come dire uno spaccato sulla incidenza degli investimenti rispetto al loro portafoglio dividendoli sostanzialmente in tre classi in tre tipologie diciamo quella più compromessa in cui abbiamo circa mille investitori che hanno acquistato per complessivi 27,4 milioni di euro di obbligazioni per un valore superiore a 50 mila euro ciascuno quando il loro portafoglio di investimento con la banca era inferiore a 100 mila euro e quindi con un livello di concentrazione dell'investimento superiore al 50% poi abbiamo una seconda categoria di investitori che sono circa 1500 risparmiatori con un nominale complessivo di 93,4 milioni di euro per i quali la concentrazione oscilla tra il 30 e il 50% sempre a fornante di un patrimonio complessivo inferiore ai 100 mila euro poi abbiamo l'ultima fascia degli investitori che sono circa 8 mila investitori per 208 milioni di euro di titoli che sono stati acquistati da chi ha un patrimonio complessivo superiore a 100 mila euro con una concentrazione che dovrebbe essere inferiore al 30% non si dice quanto pesi per questi soggetti degli oltre 400 milioni di euro di obbligazioni che sono state messe e vendute la clientela 102 milioni sono stati collocati nel corso del 2013 ovvero in un'epoca prossima al commissariamento e comunque in un momento in cui potevano esserci degli avvisagli della crisi la maggior parte di queste obbligazioni non era quotata nei mercati regolamentati ed è presumibile che appunto anzi è sostanzialmente un elemento pacifico che vi siano stati anche degli incentivi ai dipendenti per procedere alla vendita di questi titoli da questi dati il quadro che emerge a distanza di 10-15 anni dagli scandali di inizio millennio della Cirio e della Parmalat è un quadro poco rassicurante nel quale la cura degli interessi effettivi del cliente è oggettivamente molto molto bassa e quindi vedo a chiedersi prima ancora io non tratto il profilo del merito delle violazioni ma vedo a chiedersi se effettivamente vi siano in un contesto del genere nel quale devo dire che la prima categoria di operazioni io non la definirei neanche come operazioni non adeguate quelle sono operazioni scriteriate o sciagurate che nessun soggetto potrebbe pensare solo di far compiere ad un investitore retail cioè ovvero investire più del 50% del proprio portafoglio inferiore a 100.000 euro e più di 50.000 euro in un solo titolo peraltro di propria emissione qui c'è un problema enorme sul quale io non tocco ma lo accenno solo cioè che è la possibilità per le banche di vendere i propri prodotti alla propria clientela quando questi prodotti non sono quotati e quindi sono illiquidi e quindi non abbiamo quel sistema oggettivo che è il sistema della formazione dei prezzi sui mercati regolamentati che è un indice per valutarne la rischiosità e questo a fronte di rendimenti che non erano i rendimenti neanche della Repubblica Argentina della fine degli anni 90 sono dei rendimenti che per un investitore che sia lo 0,5 l'1% in più rispetto a un titolo o simile è un rendimento che non ha nessuna visibilità quindi si tratta oggettivamente per capire se questa situazione abbia qualche prospettiva risarcitoria giudiziaria a mio avviso il primo punto da capire è chi è che risponde e se c'è qualcuno e chi è che risponde di questi di questi illeciti ed in particolare se ne rispondono le good bank e questo è da effettuare oggettivamente sotto tre profili di azioni che vi possono essere la prima azione è l'azione restitutoria per ottenere delle che l'investitore può fare per ottenere la restituzione del capitale mutuato la seconda può essere un'azione come dire per la diffusione sul mercato di informazioni economiche scorrette basti pensare ai bilanci o ai prospetti che peraltro in alcuni casi sono stati contestati con sanzioni irrogate dalla Consob questo è il caso della banca banca Marche e infine il terzo caso è quello della violazione della disciplina contrattuale legale inerente alla prestazione dei servizi di investimento ecco per dare questa risposta bisogna secondo me ricostruire brevemente quello che è il punto centrale del provvedimento di risoluzione del decreto salvabanche che è appunto l'accessione di una serie di attività alle good banks ed in particolare il comma 843 dell'articolo 1 della legge di stabilità prevede che alle good banks che come dire hanno come oggetto sociale determinato dalla norma di legge che le ha costituite l'esercizio dell'attività di ente ponte ai sensi del decreto legislativo 180 dicevo il comma 843 prevede che alle good banks possano essere trasferiti azioni partecipazioni diritti attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione e l'articolo 47 del decreto legislativo prevede che l'ente ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti nelle attività e nelle passività ceduti salvo che la banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione richiamo ancora una norma brevemente che la norma a mio avviso è centrale che l'articolo 57 sempre del decreto legislativo 180 che prevede che quando una passività è interamente cancellata gli obblighi a carico dell'ente sottoposto a risoluzione sorti in relazione a tale passività e su questo ci torneremo sono estinti cioè sostanzialmente sia un'estinzione dell'obbligazione ex imperio sulla base del provvedimento della banca d'Italia la cessione che quindi è sostanzialmente determinata dai provvedimenti della banca d'Italia ai quali è sostanzialmente anche demandato di individuare e di configurare quella che è l'azienda che viene trasferita all'ente ponte sono dei provvedimenti che sono sottoposti ad una disciplina particolare per quanto riguarda la cessione dell'azienda infatti vi sono una serie di deroghe ai principi civilistici cioè il primo la prima deroga è quella per cui non è richiesto il consenso di soggetti diversi dal cessionario e questo nemmeno a maggioranza come può avvenire nelle procedure concorsuali e nel concordato preventivo non è necessaria la notifica della cessione e soprattutto e questa è una norma fondamentale si prevede l'articolo 47 che per i contratti oggetto della cessione il contraente ceduto può porre le eccezioni derivanti dal contratto ceduto ma non quelle relative ad altri rapporti col cedente e poi vi sono altre norme che sono dirette sostanzialmente a liberare il cedente dall'obbligo di solidarietà che altrimenti sarebbe previsto dalle norme che disciplinano il trasferimento dell'azienda quindi il quadro sostanzialmente che emerge da questa disciplina è di una cessione dell'azienda che è un po' destrutturata nella quale la Banca d'Italia come autorità di risoluzione può prendere scomporre l'azienda ed eliminare quindi distinguerne alcuni pezzi e trasmetterne degli altri è una disciplina che sostanzialmente è informata ad un solo principio che è quello della stabilità e della celerità e questo nell'ottica di evitare che vi sia una cesura nell'esercizio dell'attività bancaria che determinerebbe degli effetti per il sistema assolutamente non sostenibili basta pensare che se chiudeva fossero stati chiusi gli sportelli della Banca d'Italia o della Banca della Marca anche solo per una settimana questo avrebbe potuto provocare un effetto di panico sull'intero sistema quindi sostanzialmente la disciplina della cessione dell'azienda all'ente ponte è una disciplina che vuole garantire sostanzialmente la continuità aziendale di quella parte aziendale che è rimasta che è rimasta nel che è stata trasferita detto questo bisogna secondo me poi se si vedono i provvedimenti concreti di risoluzione delle quattro banche abbiamo quattro provvedimenti di risoluzione in cui la Banca d'Italia estingue le obbligazioni subordinate che vengono anche elencate con i codici esigne e le caratteristiche e le azioni dopodiché con quattro provvedimenti sostanzialmente identici Banca d'Italia ha disposto la cessione agli enti ponte di tutti i diritti le attività e le passività costituenti le aziende bancarie delle vecchie banche ad eccezione solo delle obbligazioni che sono state risolte quindi fatta questa questa brevissima e incompleta analisi della disciplina applicabile a me pare che la prima risposta con riferimento all'obbligo di restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario debba avere una risposta negativa cioè sicuramente le good banks non rispondono della restituzione del capitale e questo perché il provvedimento di risoluzione ha determinato l'estinzione di quale diritto del diritto che è incorporato nel titolo cioè il diritto patrimoniale che ogni obbligazionista ha ad ottenere la restituzione del capitale e il pagamento dell'accedolo degli interessi e questo trova conferma l'articolo 57 del decreto legislativo punto di vista dell'estinzione dell'obbligazione ma c'è da chiedersi questo tipo di conclusione vale anche per le altre due azioni cioè gli obblighi risarcitori delle vecchie banche e a me qua pare sostanzialmente che la risposta sia di senso opposto perché abbiamo visto che il provvedimento di cessione dell'azienda agli enti ponte prevede la cessione di tutti i diritti le attività e le passività ad eccezione delle obbligazioni risolte che a mio avviso devono essere interpretate come estinzione delle obbligazioni che sono sorte in relazione a quella passività lì cioè sono i diritti patrimoniali incorporati nel titolo quelli sono risolti ma nel momento in cui viene trasferita senza soluzioni di continuità tanto che gli sportelli non hanno chiuso neanche un'ora tutta l'azienda bancaria alle nuove banche a me pare scontato che vengano trasferiti tutti i diritti e anche le passività e quindi le obbligazioni che la banca ha assunto sulla base dei contratti di investimento conclusi quindi la banca avendo concluso contratti di investimento la vecchia banca con la propria clientela la quale ha venduto delle obbligazioni subordinate nel momento nel momento in cui ha commesso un illecito per cui deve rispondere la vecchia banca di quelle operazioni di negoziazione il trasferimento dell'azienda fa sì che questo sia trasferito agli enti ponte è una soluzione peraltro contraria non potrebbe a mio avviso neanche essere sostenibile sulla base del principio o uno dei principi fondamentali dell'intera disciplina cioè ovvero il no creditor worse off in base al quale nessun creditore deve sostenere delle perdite superiori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in caso di procedura concorsuale l'articolo 52 del decreto legislativo prevede anche un principio di parità di trattamento di uniformità nei confronti di tutti gli azionisti e dei creditori ecco sostanzialmente io penso che discriminare un soggetto che abbia acquistato nel 2006 un titolo Lehman Brothers che eserciti un'azione risarcitoria nei confronti della nuova banca quale successore universale della vecchia banca rispetto a un soggetto che ha acquistato il titolo subordinato non abbia alcuna attinenza né con quelle che sono le obbligazioni risolte e sarebbe contrario a questo al principio stabilito appunto l'articolo 52 del decreto vengo brevemente chiudendo due osservazioni sulle procedure arbitrali devo dire che su questo il giorno prima di chiudere la relazione sono emerse notizie che sarebbe stata sostanzialmente stravolta la disciplina che doveva essere attuata sulla base della legge di stabilità non più da decreti ministeriali ma da decreti leggi poi c'è stato un passo indietro e quindi oggi come dire abbiamo un quadro di sostanziale certezza sostanzialmente quello degli articoli dell'articolo 1 come 855 seguenti della legge di stabilità la legge di stabilità che cosa fa prevede le istituzioni di un fondo che viene chiamato di solidarietà questo fondo di solidarietà viene gestito e finanziato sostanzialmente dal fondo dal fondo di tutela dei dei depositi e può erogare prestazioni così vengono chiamate a favore dei soli obbligazionisti subordinati fino a un limite di 100 milioni e spetterà i decreti attuativi prevedere le e così dice espressamente l'articolo 857 le procedure da esperire che possono essere in tutto in parte anche di natura arbitrale e poi il comma successivo specifica che queste procedure qualora abbiano natura arbitrale possano essere delle procedure sostanzialmente dirette ad accertare la violazione degli obblighi di informazione correttezza e trasparenza previsti dal testo unico della finanza e dai regolamenti attuativi ecco questo utilizzo del termine arbitrale che poi come dire ha fatto anche breccia sui media che parlano di arbitrati dei risparmiatori a mio avviso deve essere un po' verificato e interpretato perché qua non abbiamo a mio avviso alcun arbitrato inteso in senso tecnico così come previsto dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile perché non abbiamo l'esercizio di alcuna funzione contenziosa perché il soggetto che va a erogare le prestazioni è il fondo interbancario il fondo di solidarietà e quindi non è sicuramente il fondo di solidarietà il soggetto responsabile ovvero non è il soggetto nei cui confronti venga svolta una domanda e questo ha delle conseguenze non irrilevanti a mio avviso perché porta oggettivamente a qualificare queste procedure come delle procedure di accesso a sovvenzioni fondi pubblici mi viene da pensare alle procedure di accesso in caso di eventi naturali quali l'alluvione o i terremoti però con l'arbitrato a mio avviso c'è veramente poco da fare e questo anche perché il soggetto che a mio avviso pare responsabile di queste violazioni cioè la vecchia banca e quindi la nuova banca per l'accessione dell'azienda non è minimamente coinvolto in questa vicenda e forse verrebbe anche da dire c'è anche qualche rischio o qualche preoccupazione sul fatto che venga coinvolto e questo perché la legge di stabilità prevede all'ultimo comma che tratta questa materia prevede in particolare che ve lo leggo perché secondo me è una norma infondamentale nel ricostruire tutto il quadro prevede che resta salvo il diritto al risarcimento del danno cioè questo vuol dire che l'investitore che abbia esperito la procedura e abbia ottenuto solo una parte del danno può naturalmente andare ad agire per il resto e poi continua dicendo il fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno nel limite della montare della prestazione corrisposta allora abbiamo una situazione che a mio avviso diventa assolutamente poco razionale perché ci saranno delle procedure per accedere agli arbitrati ci potranno essere delle azioni giudiziarie dirette a ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito non ristorato dal fondo di solidarietà e poi ci saranno delle azioni di rivalsa che verranno fatte se verranno fatte qualora ne sia l'intenzione politica ma l'intenzione di non esercitarle sarebbe una violazione della legge una violazione dei doveri di diligenza di prudenza del fondo nei confronti della collettività ci sarà questo diritto di rivalza di richiedere l'esercimento del danno ai soggetti responsabili quindi sostanzialmente tre azioni separate senza alcun coordinamento che non avranno altro che l'effetto di creare come dire confusione possibilità di contrasto di giudicati questo senza alcun tipo di rispetto per l'economia processuale una notazione solo per concludere ci sono anche alcuni profili di irragionevolezza della disciplina perché basti pensare che possono accedere a questo fondo solo gli obbligazionisti subordinati quindi non gli azionisti quando invece il testo unico della finanza non fa alcuna differenza tra azioni e obbligazioni anzi c'è la vendita di un'azione in alcuni casi seppur un prodotto più semplice richiede forse una maggiore attenzione per l'adeguatezza oggettiva dell'operazione e un secondo profilo di poca ragionevolezza sta anche nel fatto che possono accedere a questo fondo alcuni soggetti ovvero le persone fisiche le imprese agricole gli imprenditori individuali e coltivatori diretti come se non fossero degli imprenditori dei piccoli imprenditori individuali e sostanzialmente c'è l'esclusione delle imprese collettive a me sinceramente non riesce se non con l'unico intento di limitare l'onere patrimoniale per il fondo non riesco a individuare una ragione per la quale un'impresa di grandi dimensioni ma individuale possa accedere al fondo una piccola impresa collettiva di due soci artigiani invece in quanto non prevista non possa accedervi quindi concludendo a me pare che questa disciplina degli arbitrati anche considerato che ad oggi non abbiamo i decreti attuativi e che i decreti attuativi potranno anche come dire essere soggetti ad impugnazioni sia una disciplina al momento abbastanza oscura in cui non si capisce neanche se le procedure siano arbitrali o quale natura altra abbiano mi pare anche che siano delle procedure sia un sistema che non tenga conto di quello che è avvenuto nel nostro paese nel nostro nel nostro paese negli ultimi dieci anni perché a seguito di una vicenda simile che è stata quella della negoziazione alla clientela retail dei titoli della Cirio e della Parmalat tutta una serie di grandi di grandi gruppi bancari hanno aperto delle procedure di conciliazione con il coinvolgimento delle organizzazioni degli investitori delle procedure di conciliazione che come dire sono riuscite in molti casi a sfoltire il contenzioso e a consentire dei risarcimenti in particolare penso solo alla procedura di banca intesa prima ancora della fusione con il San Paolo ha valutato in un anno circa oltre 20.000 richieste proponendo 10.384 rimborsi di cui quasi 1200 integrali allora questo secondo noi era il momento secondo me era il modello al quale probabilmente bisognava ispirarsi e forse però per fare questo bisognava partire dal presupposto che gli enti ponte e le nuove banche non possono liberarsi della responsabilità degli illeciti che hanno in massa e costantemente probabilmente perpetuato ai danni della vecchia clientela grazie grazie dell'ottima relazione do subito la parola al professor Paolo Giudici che riprende da altra prospettiva ancora la disciplina della MIFID 1 e della MIFID 2 partendo da un'analisi casistica in punto di vigilanza ispettiva e quindi sanzionatoria della CONSOB vediamo se riesco a far partire le slide allora ho preparato delle slide perché vendono la facoltà di economia se non si presentano gli slide le slide si è fuori e quindi l'ho fatto ma magari vengono bene dopo una giornata molto intensa la prima slide è una vignetta uscita su tutti i giornali spagnoli subito dopo la crisi finanziaria quando in Spagna esplose un grande caso relativa alla vendita massiccia da parte delle banche spagnole di cosiddette partecipazioni a titolo preferenziale che erano dei titoli strani che venivano venduti come titoli a rendimento sicuro e che invece tali non erano e su cui è nato in Spagna un grandissimo contenzioso che poi ha influenzato MIFID 2 la redazione delle norme in tema di regola di condotte di MIFID 2 e che viene ogni tanto anche menzionato come punto di riferimento per la questione degli arbitrati tra virgolette visto che tali non sono in effetti arbitrati italiani perché anche in Spagna vi fu la necessità di adottare dei sistemi di soluzioni delle controversie simili a quelli di cui oggi stiamo discutendo quindi in realtà non abbiamo inventato nulla nella il tema che mi è stato affidato era quello di MIFID 1 passaggio a MIFID 2 l'enforcement e anche l'azione della CONSOB si è molto discusso in questi mesi di chi fosse la responsabilità Banca Italia CONSOB cosa è mancato viviamo in un paese che vive nel mito che aumentando i controlli pubblici possiamo arrivare a un sistema perfetto in cui tutte le diciamo gli illeciti vengono eliminati e quindi ho fatto una ricerca sui precedenti CONSOB relativi a situazioni simili a quelle che verranno discusse nel corso degli arbitrati e metto sempre arbitrati tra virgolette perché aderisco pienamente a quanto è stato detto dall'avvocato Fiorio e ho trovato quattro casi tre casi recenti quattro casi se avessi fatto la ricerca un mese e mezzo fa ne avrei trovati soltanto due perché gli ultimi due sono usciti di recente sull'ultimo bollettino sull'ultimo bollettino CONSOB sono li descrivo non tanto per aditare le imprese che sono state sanzionate ma perché si vedono una serie di fatti specie di situazioni che poi sono situazioni che vengono quotidianamente discusse nelle aule dei tribunali italiane sono discusse a livello europeo nell'ambito appunto della discussione su MIFI2 quindi sono dei casi abbastanza paradigmatici che emergono dalla casistica CONSOB sono casi che ho trovato non ho selezionato quindi come vedete sono la numerosità è scarsissima ci sono alcuni casi ho appreso oggi a pranzo non tutti i casi sono pubblicati alcuni casi non sono stati pubblicati ci sono alcuni intermediari che sono riusciti a convincere CONSOB della non necessità di pubblicare il provvedimento sanzionatorio ma analizzando questi casi si notano delle cose secondo me molto interessanti tra questi ultimi casi relativi a banche sicuramente il primo e per certi versi anche il più interessante è Cassa di risparmio di Savigliano un caso deciso dalla CONSOB nel 2013 in cui sostanzialmente vengono fatte una serie di accuse alla banca violazione di regole di condotta consulenze mascherate da esecuzione di ordine riprofilature strumentali piazzamento di un prestito obbligazionario presso la clientela in soli due giorni che cosa era successo sostanzialmente questa piccola cassa di risparmi aveva bisogno di approvvigionarsi sul mercato emette un prestito obbligazionario chiamano al telefono 401 clienti li convocano riprofilano diciamo gli prospettano la possibilità di fare questo affare comprare quindi obbligazioni dalla banca e vengono riprofilati cioè praticamente la CONSOB individua accerta il fatto che vengono tutti portati da un livello di rischio basso medio quello che era vengono alzati e quindi la banca in due giorni in due giorni colloca per intero il prestito obbligazionario non so esattamente la storia di questo caso credo che sia legato anche a una vicenda relativa al licenziamento di due dirigenti che poi hanno denunciato pratiche interne comunque la questione arriva alla CONSOB e la CONSOB dà delle sanzioni dà delle sanzioni per complessivi 160.000 euro e io qua facendo un attimo una rilevazione così anche di tipo numerico quantitativo sono andato a vedere il bilancio della Casa di Risparmio di Savigliano e dal bilancio si apprende che il Consiglio di Amministrazione aveva percepito nell'anno in questione un compenso complessivo per 740.000 euro 48.000 euro i sindaci e le sanzioni personali sono sanzioni personali di poche migliaia di euro l'amministratore delegato viene sanzionato per 30.000 euro poi una cosa curiosa tutta italiana i sindaci vengono invece sanzionati per l'intero loro compenso come se l'amministratore delegato avesse fatto una cosa molto meno grave dei sindaci ok i sindaci devono denunciare ma voglio dire c'è un certo accanimento della CONSOB nei confronti dei sindaci quello che osservate potete osservare ovviamente è che è un caso di una certa di una certa così rilevanza voglio dire dal punto di vista del comportamento del rispetto delle regole di condotta insomma un caso abbastanza grave questa della riproliferatura nuova profilatura di tutti i clienti nel giro di due giorni e le sanzioni tuttavia non sono molto elevate il caso di poste italiane è un caso deciso nel 2015 che è molto diverso perché mentre il caso precedente è un caso che si esaurisce in due giorni questo è un caso che ha una bella durata temporale se guardate la violazione delle regole di condotta si protrae per più di due anni e mezzo sostanzialmente non ci sono regole sulla prevenzione dei conflitti di interesse e non ci sono regole sull'applicazione delle regole di adeguatezza del resto un po' questo si sente poste italiane diciamo è entrata in questo mercato in maniera ultimamente è un'azienda molto grande e ci sono ci sono stati dei problemi e quindi anche in questo caso la Consoba accerta tutta una serie di pratiche interne a poste italiane non del tutto comandevoli appunto nessun tipo di profilatura dei clienti completa violazione delle regole di adeguatezza il periodo di tempo è molto lungo come ho detto due anni e mezzo quindi uno leggendo questo caso poste italiane è un caso molto grande ha un grande beneficio di diffusione degli diciamo dei punti vendita sul territorio italiano insomma uno si aspetta una Consob che possa andare un pochino più con la mano pesante rispetto alla povera cassa di risparmio di Savigliano che poi in fondo soltanto per due giorni accertati si è comportata male le sanzioni sono di complessivi 60.000 euro non sono neanche andato a vedere i compensi degli amministratori delegati eccetera eccetera perché tanto il caso successivo è tanto più bello che rendeva inutile fare una ricerca di questo genere perché il caso successivo è il caso Banco Popolare anche qua sanzioni che riguardano un periodo di tempo di circa due anni e mezzo altre relativa alla valutazione di adeguatezza la mancata valutazione di adeguatezza un po' più corta un anno e mezzo anche qua tutta un'organizzazione aziendale che premia la vendita di certi prodotti a scapito di altri i clienti che vengono sostanzialmente chiamati e vengono incentivati a disinvestire per poi reinvestire in prodotti su cui la banca percepisce compensi per il collocamento particolarmente interessanti e le sanzioni complessive a tutto il consiglio di amministrazione e ai sindaci di Banco Popolare sono di 261.500 euro con l'amministratore delegato che subisce una sanzione anche in questo caso di 30.000 euro come vi dicevo è un caso particolarmente interessante perché senza fare diciamo nomi e cognomi l'amministratore delegato di Banco Popolare guadagnava 1.700.000 euro negli anni aveva guadagnato più o meno in tutti gli anni relativi all'individuazione del comportamento illecito circa 1.700.000 euro di reddito e gli viene erogata una sanzione di 30.000 euro e un 57esimo del reddito annuo circa un 140esimo del reddito di periodo probabilmente se glieli prendevano dal conto corrente senza dirgli niente lui non se ne sarebbe neanche accorto di questa sanzione no? stiamo parlando di una persona che ha prodotto più di 4 milioni di euro e che prende una sanzione di 30.000 euro per un periodo di due anni due anni e mezzo abbiamo poi l'ultimo caso pubblicato io sono dell'università di Bolzano ma devo necessariamente menzionare anche questo caso Cassa del risparmio di Bolzano ma tanto sappiamo sappiamo anche dai casi delle quattro banche sappiamo anche da altri casi Popolare di Vicenza eccetera stiamo parlando di pratiche comuni la cosa che io sto raccontando è mira a far vedere quanto pochi interventi la Consob abbia fatto e con quanta mano leggera li abbia trattati questo qua è un caso di modalità di profilatura dei prodotti dei clienti mancata presidi di valutazione di adeguatezza della clientela periodo è un periodo di quasi due anni abbiamo una certa tendenza a suggerire alla clientela una particolare concentrazione degli investimenti in prodotti della casa e abbiamo sanzioni complessive per 112.000 euro e al direttore generale che è quello che prende la sanzione più grande di 10.000 euro quindi facendo una sintesi di questi casi diciamo una banca come Banca dell'Etruria o un'altra delle quattro banche o Popolare di Vicenza o Veneto Banca ma ce ne sono tantissime altre come dire guardando leggendo il bollettino Consob non è che si spaventi troppo esiste tutta una letteratura questo però è un problema perché esiste tutta una letteratura noi sappiamo qual è l'importanza della fiducia nei mercati finanziari ed esiste tutta una letteratura internazionale tra l'altro prevalentemente ad opera di ricercatori italiani uno dei paper più citati è Guiso Sapienza Zingales Trusting the Stock Market che si occupa della importanza della fiducia nei mercati finanziari e si sa ci sono ricerche internazionali sui principali lavori scientifici sulle principali pubblicazioni scientifiche si sa che le famiglie non hanno fiducia nei meccanismi del mercato finanziario e partecipano in maniera non ottimale ai mercati finanziari questo qua tutto questo fenomeno ha un effetto a cascata sull'economia perché evidentemente le famiglie non danno abbastanza soldi alle imprese meritevoli che li potrebbero utilizzare adeguatamente per finanziare le proprie attività osservo sta per uscire questo articoli articolo scusate che è stata la lettura inaugurale alla riunione dell'American Economic Review di quest'anno da parte di Campbell che è uno dei maggiori economisti del settore della consumer finance che si occupa a livello globale proprio di questo tema della scarsa partecipazione degli investitori retail ai mercati finanziari degli errori che gli investitori retail fanno come questi errori vengono sfruttati dagli intermediari del mercato finanziario per spingerli ad investimenti subottimali che evidentemente accrescono la mancanza di fiducia e come questo possa essere risolto quindi quello che osserviamo dalla prospettiva italiana è un enforcement pubblico come si dice che non è stato particolarmente aggressivo e quindi da questo punto di vista quando io leggevo queste polemiche sui giornali su chi fosse il soggetto responsabile e ne ho parlato anche con i colleghi in Consob ritengo che la Consob non sia stata particolarmente dissuasiva nei confronti del sistema e infatti è noto a tutti che il sistema degli intermediari finanziari banca e sim ha soprattutto paura delle azioni private più che delle azioni della Consob la Consob si gestisce le azioni private sono un pochino più difficili da gestire ma qua abbiamo un problema che poi è il problema degli arbitrati anche io l'avevo messo senza aver sentito la tua relazione già tra virgolette degli arbitrati cioè il problema dell'adeguatezza ed è il problema su cui si sta dibattendo il governo come faccio a fare un sistema rapido per dimostrare che c'è stata una violazione di regola di adeguatezza perché la regola di adeguatezza è una regola in cui non basta come si legge troppe volte in giro si sente dire troppo in giro non basta dire io ho venduto delle obbligazioni subordinate perché non è vero l'adeguatezza rispetto a un portafoglio se un cliente ha un portafoglio di un milione di euro può anche come si compra delle azioni può anche comprarsi delle obbligazioni subordinate anzi come dicevamo prima sembra quasi che le obbligazioni subordinate siano diventate più pericolose delle azioni non è così magari sono più pericolose perché uno le compra pensando di comprare delle obbligazioni normali quindi non hanno una chiara percezione del rischio quindi il problema è che sul giudizio di adeguatezza è un giudizio caso per caso infatti a livello europeo anche in America negli Stati Uniti i giudizi di adeguatezza sono tutti giudizi individuali le class actions in questo settore non funzionano perché non c'è una omogeneità sufficiente per valutare se l'adeguatezza del suggerimento dato a un singolo investitore se il prodotto fosse adeguato o meno perché non lo posso vedere guardando semplicemente un prodotto devo guardare tutta la sua situazione e tutta la composizione della sua ricchezza sui giornali sono stati dati due giorni fa questo l'ho preso al sole 24 ore di due giorni fa stanno emergendo i criteri che il governo sta cercando di individuare per utilizzare dei meccanismi presuntivi che possano far pensare che ci sia stata una sistematica violazione delle regole di adeguatezza e tra questi indici sono indici tratti dai casi CONSOB di cui vi ho parlato in particolare per esempio un chiaro indice è il fatto che il cliente sia stato riprofilato subito prima della vendita dei prodotti finanziari tant'è vero che ci sono gruppi nel private banking in Europa che impediscono alla forza vendita di vendere prodotti finanziari subito dopo la riprofilatura cioè il cliente viene riprofilato c'è un periodo di raffreddamento in cui non si può fare niente proprio per evitare che possano essere adottati anche da parte della forza di vendita dei private bankers dei comportamenti strategica come vi dicevo c'è tanta confusione anche in Europa sul criterio della valutazione di adeguatezza per esempio non mi pare che sia sufficientemente compreso il fatto che un investimento quando c'è un investitore che viene profilato con un rischio alto non è che io perché ha il rischio alto gli vendo 4 milioni di euro di obbligazioni subordinate della mia banca perché comunque c'è un principio di diversificazione ci deve essere un principio di diversificazione sono temi di cui si sta occupando in Inghilterra l'autorità di vigilanza di cui si che vengono discusse a livello europeo ma su cui in Italia ogni tanto si sentono discussioni che sembrano far pensare che se il profilo di rischio è alto gli vendo quello che voglio lo ha accettato è la diversificazione il principio di diversificazione che è l'unico come dicono gli economisti finanziari free lunch che c'è sul mercato finanziario cioè l'unica cosa gratis che puoi fare è diversificare possa essere completamente dimenticato quindi MIFID 1 non è riuscita a eliminare i problemi sta per arrivare MIFID 2 quando ho preparato le slides non avevo ancora avuto notizia del fatto che c'è stato un rinvio entrerà in vigore nel 2018 il motivo è che i grandi gruppi bancari europei hanno affermato che non riescono a mettere a implementare dei meccanismi IT quindi informatici per la gestione di tutti i nuovi sistemi richiesti da MIFID 2 MIFID 2 in che cosa cambierà le cose innanzitutto ci sarà questo famigerato nuovo meccanismo di product governance quindi intermediari che creano dei prodotti finanziari dovranno fare una cosiddetta profilatura dei prodotti cioè ex ante dovranno stabilire a chi devono andare questi prodotti e a chi non devono andare come ho detto anche su questo questo è un punto che può generare molta confusione perché non va demonizzato il singolo prodotto va demonizzato come il singolo prodotto viene usato all'interno di un portafoglio verranno poi adottate le nuove regole sulla consulenza indipendente e quindi ci sarà l'obbligo per chi vuole manifestarsi come consulente indipendente di percepire compensi soltanto da parte del cliente quindi di non percepire retrocessioni da parte delle imprese prodotto e qua la grande scommessa che si gioca a livello europeo è quella di cercare di vedere se gli investitori retail o anche le famiglie diciamo più benestanti saranno disposte a pagare per la consulenza perché da quello che emerge da studi sia di finanza sia da studi condotti dalla commissione europea sul mercato europeo c'è circa un 30% della popolazione degli investitori delle famiglie che indipendentemente dal livello culturale e dal livello di ricchezza personale non è avverso al pagamento di fees per ricevere consulenza quindi cioè MIFI2 cercherà di fare una re-education della clientela retail e poi ultimo punto ultimo punto che è un punto che non mi sembra abbastanza discusso ma che secondo me sarà un punto estremamente importante ai sensi di MIFI2 sarà gli intermediari saranno obbligati a rilasciare un documento scritto in cui ogni volta che suggeriscono un prodotto a un cliente dovranno indicare per iscritto quali sono i criteri che hanno seguito per accertare l'adeguatezza di questo prodotto stanno uscendo in questi giorni sentenze della Cassazione che in qualche misura sul tema della regola di adeguatezza e sugli obblighi di informazione che l'intermediario deve dare al cliente stanno rileggendo la vecchia disciplina in un senso che forse non era ovvio cioè che non basta non bastava dire non sarebbe bastato dire investimento non adeguato ma bisogna spiegare al cliente anche perché MIFI 2 su questo punto sarà molto esplicita e vedremo se si riuscirà a migliorare la situazione di un mercato che con MIFI 2 1 come il caso delle quattro banche italiane dimostra non ha funzionato nei termini che si speravano grazie 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 al professor giudici per questa ricostruzione casistica ma anche dotta su un tema delicato e chissà quando la MIFI 2 parlavo con il professor Lener entrerà davvero in vigore cambiando sicuramente il paradigma applicativo delle regole richiamate probabilmente ci si sposterà dal terreno dell'informazione al terreno dell'astensione do subito la parola al professor Astone che analizza in una prospettiva originale il tema del bail-in con gli strumenti del civilista ma anche con le lenti del diritto costituzionale grazie grazie agli organizzatori e naturalmente a Filippo Sartori che mi ha riportato qui a Trento tratto rimanendo assolutamente nei tempi essenzialmente tre punti vorrei in particolare sostenere la costituzionalità come già è stato appena anticipato dei nuovi strumenti di risoluzione vorrei segnalare alcune riserve di carattere non costituzionale su questi strumenti vorrei infine venire ai casi italiani per segnalare le loro peculiarità e il modo in cui forse determinate distorsioni potrebbero essere attutite primo punto le questioni di costituzionalità vorrei anzitutto sottolineare che a me sembra che tutti questi sistemi siano essenzialmente conformi ai principi generali del diritto commerciale intanto l'azzeramento del capitale l'azzeramento del valore delle azioni strumento assolutamente normale è stato detto oggi questo potere normalmente compete all'assemblea ma è anche vero che l'abbattimento del capitale è assolutamente necessario la ricapitalizzazione è assolutamente necessaria quando il capitale è perso quindi nessun valore viene sottratto il valore purtroppo è stato già sottratto dal fatto che la compagnia l'impresa la banca nella specie è in difficoltà le obbligazioni subordinate le obbligazioni subordinate sono in realtà crediti che hanno un trattamento peculiare lo sappiamo e sempre stamattina è stato detto io credo molto giustamente sono titoli emessi per rafforzare il capitale per rafforzare il patrimonio sono in realtà nell'area forse grigia ma notissima alla letteratura del diritto commerciale del quasi capitale e naturalmente con il capitale dividono in buona misura le sorti ed il destino gli altri crediti ovviamente io direi anche qui la verità è che il valore dei crediti nei confronti di debitori insolventi o prossimi all'insolvenza tende per sua natura ad azzerarsi è notissimo che in casi di grandi importanti imprese insolventi il valore dei crediti in chirografo è sceso immediatamente a valori prossimi allo zero credo che sia ad esempio nella percentuale del zero virgola la soddisfazione dei creditori di Alitalia ricordo Alitalia perché non si tratta di una banca ma in un certo modo era un'impresa che per una serie di ragioni si trovava in una situazione dico adesso impropriamente quasi del too big to fail perché non perché fosse così grande ma perché c'erano ragioni d'immagine ragioni politiche ricorderete che l'uno e l'altro dei candidati alla presidenza del consiglio parlavano moltissimo di Alitalia e di una certa parte della campagna elettorale si è giocata anche su questo sul destino che Alitalia dovesse avere tutto questo è costato ovviamente credo nell'ultimo prestito ponte quindi solamente negli ultimi sei mesi dell'anno circa 5 euro pro capite quindi fate il conto su ciascuna delle vostre famiglie con molta facilità l'Italia perdeva circa 2 milioni al giorno quasi 2 milioni al giorno e tutti conoscete l'esito della vicenda quei creditori cosa hanno ottenuto ovviamente nulla il problema è forse l'ho accennato stamattina in un passaggio rapido ma molto importante la professoressa Semeraro il problema è quello dell'incidenza della disciplina legislativa di una disciplina legislativa imperativa sui contratti in corso perché in buona sostanza si tratta di immaginare una sorta di a me sembra inserzione automatica di clausola che consenta la conversione del credito in capitale e quindi eventualmente anche l'azzeramento del capitale del credito in un procedimento temporale necessariamente compresso schiacciato quindi ridotto all'essenziale però su questo mi sembrava voleste dire la professoressa Semeraro e sono sicuramente d'accordo anch'io non mi sembra che possano essere avanzate particolari riserve di costituzionalità in una valutazione comparativa degli interessi in gioco si tratta io credo di provvedimenti che reggano che superino il test di razionalità che le leggi retroattive normalmente devono avere ed è inutile adesso forse sottolineare il fatto che se tutti i provvedimenti di politica economica dei governi il nostro i governi altrui non potessero avere un'incidenza temporale istantanea e quindi non potessero intervenire anche sui rapporti in corso che altrimenti per anni rimarrebbero anni e anni rimarrebbero legati alle vecchie regole questi provvedimenti perderebbero in grande misura il loro impatto quindi è inevitabile che il credito si trasformi in una certa misura in capitale e seppure in una vicenda completamente diversa che cito adesso solo per creare un altro termine di paragone Parmalat un sistema poi apprezzatissimo da tutti perché tutti hanno ritenuto che quella fosse stata un'ottima uscita dalla crisi il sistema si è essenzialmente basato sulla trasformazione dei crediti in capitale trasformazione di crediti in capitale in entità del tutto nuove la nuova Parmalat non aveva più nulla a che vedere con la vecchia Parmalat e quindi naturalmente aveva tagliato anche ogni possibile filo di responsabilità per il passato era un'entità completamente nuova completamente separata naturalmente in quell'occasione tutto ciò avvenne attraverso lo strumento del concordato e questo è il motivo per cui oggi noi ci troviamo a discutere tutto questo avviene senza il consenso ma come dicevo avviene in forza di norme imperative che credo possano validamente intervenire su quei rapporti verosimilmente norme di questo tipo stabilizzandosi progressivamente nel tempo incentiveranno la rinegoziazione incentiveranno nuove forme contrattuali e uno degli effetti positivi potrebbe essere appunto quello di una immediata disclosure di questo possibile esito dell'operazione fermo questo che mi sembra di poter dire sul piano del diritto commerciale sul piano del diritto costituzionale a me non riesce possibile vedere una forma di esproprio non vedo per la verità la struttura dell'esproprio non vedo cioè l'apprensione di un bene o di una utilità da parte della pubblica amministrazione ai danni di un privato qui se è vero quanto dicevo prima e io ovviamente parlo adesso sulla teoria poi vedremo in concreto i casi poi vedremo se nei casi di specie sussistevano o non sussistevano i presupposti ma è chiaro che determinati provvedimenti sono stati assunti sul presupposto che il valore fosse già azzerato e non potesse dunque essere trasferito utilmente a nessuno il problema forse ed è stato detto anche questo è quello della tutela del risparmio esiste una tutela costituzionale del risparmio e nella specie il risparmio è stato tradito che cosa significa esattamente questa tutela costituzionale del risparmio io credo che essa non possa in nessun modo corrispondere a una garanzia indifferenziata di ogni e qualsiasi forma di risparmio in realtà in una lettura sistematica del testo costituzionale a me sembra di poter dire che la tutela del risparmio si ricolleghi alla tutela della proprietà la tutela della proprietà a sua volta non è una tutela generale ed indifferenziata sono tutelate alcune forme di proprietà che sono quelle promosse incoraggiate favorite in un'ottica di tutela della persona quindi con la finalità di un'esistenza libera e dignitosa quindi con la finalità ultimo dello svolgimento della personalità in questo discorso c'era già l'idea io credo della frattura del frazionamento del concetto cioè della distrutta unità del concetto di risparmio risparmi direi al plurale e non più risparmio al singolare il che giustifica mi sembra validamente anche il limite dei 100.000 euro il limite dei 100.000 euro ovviamente è puramente convenzionale e se ne può discutere e quando si fissa un limite si può sempre discutere perché 100.000 e non 90.000 perché 100.000 e non 110.000 per carità però l'idea che ci sia un limite è io credo assolutamente assolutamente giustificata la verità è che nell'ambito di un ragionamento di diritto costituzionale è necessario il bilanciamento tra l'interesse alla tutela del risparmio che sicuramente esiste con altri interessi costituzionali ugualmente degni o forse in determinate condizioni maggiormente degni in un paese che conosce come il nostro una pressione fiscale già molto elevata e che quindi con fatica sopporta ulteriori innalzamenti della soglia in un paese che conosce un problema di debito pubblico di spending review e quant'altro che spesso incide su servizi pubblici essenziali e che a volte ha un sistema che non riesce a dare pronta risposta ai bisogni più elementari che maggiormente richiedono risposta immediata beh è molto difficile spiegare che il risparmio vada tutelato sempre e comunque a prescindere da ogni altra considerazione questo potrebbe portare soggetti esclusi dal fenomeno virtuoso del risparmio perché incapaci di produrre risparmio perché incapaci di conservare risparmio a contribuire direttamente o indirettamente alla tutela di categorie alle quali loro non riescono ad accedere perché in punto di pressione fiscale o perché in punto di diminuzione e taglio di servizi pubblici essenziali verrebbero a contribuire alla tutela di beni cui non possono in nessun caso attingere e questo non mi sembrerebbe possibile non mi sembrerebbe corretto in altre parole deve esistere la tutela dei risparmiatori ma deve esistere anche la tutela di chi purtroppo non è risparmiatore la conclusione è dunque che una tutela indifferenziata del risparmio non è giustificata a livello costituzionale e negli appunti che sono circolati prima tra noi prima di questo nostro incontro è stata tra l'altro ricordata qualcuno di voi la ricorderà la sentenza della Corte Costituzionale Austriaca dell'estate dello scorso anno il fatto che si sia pronunciata la Corte Costituzionale Austriaca fa capire quanto il tema sia delicato quanto questo discorso che io adesso sto provando a fare in modo sicuramente apodittico indimostrato spero poi di poter argomentare meglio nello scritto sia complesso sia difficile a me sembra però di ricordare quando ormai è passato un po' di tempo quando l'essi quella sentenza che il caso era piuttosto diverso cioè che in quel caso c'era effettivamente stata la garanzia statale ed ecco sì e qui sì che si capisce l'incostituzionalità ma l'articolo 47 non può corrispondere a una fideghiussione generalizzata dello Stato qual è forse la verità e quali sono dunque le riserve di carattere non costituzionale e le peculiarità del caso italiano il caso italiano è ovviamente si comprende un caso molto doloroso perché i dati che prima ha portato le due ottime relazioni che adesso da ultimo mi hanno preceduto questi dati sono effettivamente dati che fanno riflettere e che in un certo senso producono rammarico sofferenza perché è difficile ammettere che questa sia la realtà del nostro paese la verità è che vi sono sicuramente gravi patologie nella prassi nel nostro paese è diventato normale lo fanno tutti è diventato normale ciò che è assolutamente patologico ed è qui che bisognerebbe reagire si è parlato anche degli strumenti preventivi e si è parlato anche mi sembra in modo più o meno implicito di difetto di vigilanza ed è sicuro ma il difetto di vigilanza non è solo quello che non ravvisa il fatto che l'impresa continui l'esercizio dell'attività avendo ormai del tutto perso il patrimonio netto questo e del resto tornando ancora indietro forse il caso all'Italia sicuramente il caso Parmalat ricorderete che Consob impugnò il bilancio di Parmalat dopo il default dopo che non erano stati rimborsati i bond quando ormai ovviamente c'era poco da impugnare e tutti avevano capito che le carte erano state falsificate sovrapponendo fotocopie perché a questo livello di rozzezza eravamo il problema è che la vigilanza andrebbe attuata sulla prassi andrebbe attuata su ciò che le banche fanno su come si compongono i portafogli se è mai possibile che titoli potenzialmente rischiosi vengano collocati con percentuali di più del 50% cioè concentrando il rischio di risparmiatori in fondo modesti su titoli altamente rischiosi e questo è chiaramente il problema la tutela di quei risparmiatori di quei risparmiatori totalmente inconsapevoli andrebbe recuperata e forse andrebbe recuperata intervenendo su una materia che a mio avviso se veramente il sistema deve acquisire credibilità e deve restituire fiducia all'intero mercato acquisendo rigore e stabilità la materia da rivedere assolutamente è quella dei privilegi ne ha parlato in profondità l'ottima ultima relazione di stamattina segnalando che è un ambito su cui bisogna assolutamente intervenire e in effetti bisogna assolutamente intervenire e l'ordine di priorità nel riparto che va rivisto secondo me integralmente partendo dalla materia dei privilegi nel codice civile e cercando regole ragionevolmente uniformi all'interno dell'intero diritto privato valutando poi se del caso la specificità dell'impresa bancaria o dell'impresa assicurativa questo va assolutamente fatto andrebbe naturalmente completato il disegno dell'unione bancaria andrebbe naturalmente istituita un'unica autorità centrale andrebbe naturalmente istituito un unico deposito di garanzia centrale e questo è noto e credo che tutti facilmente possano convenire su ciò forse nel cercare di intervenire sulla materia dell'ordine di graduazione quindi direi io privatisticamente nell'ordine dei privilegi occorre tenere presente da un lato che un maggior numero di creditori privilegiati si crea e una minore soddisfazione arriva a tutti gli altri creditori aumentare la prededuzione in prima battuta ed aumentare molto il privilegio in seconda battuta significa nelle procedure concorsoali negare qualsiasi soddisfazione a tutti gli altri quindi l'opera di riforma va fatta secondo me in un'ottica molto generale che contemperi le ragioni del privilegio con le ragioni di chi non ha il privilegio senza lasciar troppo prevalere una logica del tutto o niente a seconda dell'etichetta che contraddistingue il singolo credito secondo punto che si ricollega ai cosiddetti arbitrati tra virgolette si dovrebbe forse pensare a una distinzione tra le tipologie e mi sembra lo ha dimostrato anche lo specchietto che era apparso sul Sole 24 Ore che giustamente è stato riproposto oggi ci sono patologie di diversa gravità ci sono patologie e la giurisprudenza italiana ha già discusso molto su questo a cui a volte si ricollega la nullità radicale dell'operazione ci sono patologie a cui si ricollega invece una tutela di tipo risarcitorio forse una cosa su cui si potrebbe pensare è anche questo verificare i casi in cui la patologia dell'operazione a livello civilistico è tale per cui la tutela diventa poi meramente restitutoria perché l'intera operazione è viziata alla base in modo tale da generare quella che noi civilisticamente definiremmo nullità forse altre tutele potrebbero venire dopo rimane fermo il fatto che ormai la strada ricordava il professor Lenner e faceva bene con il contributo determinante anche del nostro paese è stata intrapresa è tracciata occorre eseguirla se il sistema deve recuperare la fiducia dei risparmiatori deve recuperarla procedendo senza oscillazioni e siccome qualcuno aveva ricordato Cartesio stamattina mi permetto di ricordarlo anch'io in un breve in una breve avvertenza che si legge nel discorso sul metodo è appunto una notazione di metodo quando ci si perde e si cerca di uscire dal bosco dal quale non si riesce più ad allontanarsi ritrovando la strada per il borgo per la città bisogna andare dritti senza più cambiare direzione prima o poi percorrendo una via più o meno lunga si uscirà dal bosco se invece si gira e si devia e si torna indietro e si cade nelle incertezze dal bosco si rimarrà prigionieri per sempre grazie grazie al professor Astone per questa acuta acuta riflessione sulle orme sulle orme di questa relazione seguiranno le considerazioni del collega di facoltà Fulvio Cortese che come noto è ordinario di diritto amministrativo quindi riprenderà la disciplina da altra visuale ringrazio i relatori per aver rispettato rigorosamente le tempistiche e ricordo al pubblico che al termine della relazione del professor Cortese che durerà non più di 20 minuti avremo la possibilità di aprire un dibattito vista la tempestività degli interventi e vista ancora la presenza in aula del professor Capriglione del professor Erzegovesi di Raimo Dolmetta eccetera quindi do subito la parola a Fulvio Cortese per poi aprire un eventuale dibattito bene grazie grazie in primo luogo Filippo per questo invito a partecipare a questo dibattito da un punto di vista che può sembrare in qualche modo molto estraneo al tema del quale abbiamo trattato oggi però oltre ad aver imparato molto dalle relazioni di oggi in realtà ho constatato che il tema i temi gli argomenti sono attraversati da questioni classicissime delle discipline pubblicistiche qui ci sono problemi evocati di costituzionalità e fra poco ne parlerò ancora ci sono problemi di fonti del diritto ci sono problemi che hanno a che fare con il sistema con la cornice qualcuno ha detto che talvolta la cornice è più importante del quadro e la cornice fa la differenza voi potete avere un quadro anche molto brutto ma la cornice in qualche modo vi aiuta anche a collocarlo bene nel vostro salotto e qui parliamo di problemi di cornice io volevo un pochino soffermarmi su queste questioni perché la vicenda dell'approvazione di una nuova disciplina sulla crisi bancaria le vicende le tante vicende delle fonti che si sono sovrapposte in questi ultimi mesi sono l'ennesima puntata di tante altre vicende in altri ambiti in altri settori che hanno messo sotto stress la cornice e che la stanno disarticolando e che quindi mettono alla luce il bordo dei quadri il bordo delle tele è la parte più brutta da vedere e questa sta emergendo in qualunque settore e questo qui è un bel problema poi ovviamente io non voglio aprire un fronte argomentativo troppo ampio vorrei solo affrontare tre aspetti tre punti in pochi minuti i tre punti sono questi dicevo il dibattito sulla legittimità costituzionale di alcuni snodi della nuova disciplina a regime sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi quindi della disciplina introdotta dal legislatore italiano in attuazione della nota direttiva di cui si è parlato più volte a questo punto io lo riassumerei con questa espressione quando il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e vi spiegherò perché tra poco il secondo punto che vorrei affrontare è il tema del rapporto che esiste tra questa nuova disciplina a regime e la vicenda del decreto salvabanche che in qualche modo è stato evocato questa mattina si è quasi conclusa decreto nato morto e imbalsamato dalla legge di stabilità in un preciso termine temporale con un'azione quasi di prestidigitazione del legislatore in realtà poi cercheremo di capire anche che cosa ha fatto il legislatore in quel contesto questo punto lo riassumerei così quando il diavolo cerca di fare anche altre pentole e prova pure a metterci i coperchi questa volta ma senza riuscirci del tutto e poi terzo punto questo sì e questo torno all'aspetto istituzionale generale il valore paradigmatico che tutte queste vicende hanno sul piano di alcune trasformazioni istituzionali che sono in atto da tempo e le cui conseguenze non sono state metabolizzate con piena consapevolezza e che riguarda in qualche modo l'affermarsi di un modello di amministrazione per legge che è delicato complesso e molto spesso insostenibile questo è un punto molto importante che va sottolineato e non è retorica è un aspetto significativo primo punto allora costituzionalità si è già parlato molto in realtà è stata evocata questa mattina si è ricordato che un autorevole decano della mia stessa disciplina notissimo il professor Merusi ha come dire prestato la sua assistenza per uno di queste una di queste prime iniziative giudiziarie che vogliono in qualche modo mettere in discussione alcuni presupposti alcuni snodi centrali della nuova disciplina si sono evocati alcuni parametri di costituzionalità l'articolo 47 in combinato disposto con l'articolo 42 non si è richiamato qui nel dibattito ma in realtà nel ricorso del professor Merusi è evocato l'articolo 117 comma 1 della costituzione perché? perché c'è anche il diritto di proprietà come tutelato dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo quindi parametro interposto di legittimità costituzionale direi che è molto interessante il dibattito se ne può discutere tantissimo il professor Astone ha in qualche modo assunto una posizione in maniera molto chiara ed è una posizione una posizione interessante perché mette in luce un dato che che forse ecco questo vorrei contribuire un pochino a chiarire in piccola parte da da pubblicista che la costituzione non ha regole che hanno lo stesso tenore di un codice la costituzione è un qualcosa di diverso è rigida quindi il legislatore non può fare quello che vuole ma questa rigidità è fatta di bilanciamenti tra principi che storicamente possono assumere anche toni contraddittori guardate che questa non è una cosa che sostengo io personalmente io riferisco un dibattito in questo momento che è interno alla dottrina costituzionalistica da molti anni e che da una ventina d'anni circa ha portato a constatare tramite un'analisi molto attenta della giurisprudenza costituzionale che ci sono degli aspetti relativi all'affermazione di alcuni principi nel testo costituzionale quelli relativi alla proprietà e anche alla libertà di iniziativa economica sono tra questi alcuni aspetti di alcune garanzie di diritti e libertà nel testo costituzionale che hanno subito una legittima trasformazione nel corso del tempo o ne potrei citare altri anche nella materia del lavoro ad esempio ce ne sono tanti legittima trasformazione perché la rigidità non sta tanto nel contenuto in alcuni casi questo contenuto emerge in modo molto forte in altri casi sta proprio nel controllo da parte della corte costituzionale della dialettica tra questi principi allora il caso austriaco che è stato correttamente secondo me evocato certo è diverso la legge austriaca era molto diversa da questa ma è un caso interessante perché la corte costituzionale austriaca fa quello che correttamente fa un giudice costituzionale e mette in luce un profilo di legittimità costituzionale che non stava nella tutela della proprietà o come nel caso nostro del risparmio o della proprietà cedu parametro interposto stava nel principio di uguaglianza perché in quel caso nel caso austriaco il legislatore che cosa aveva fatto era intervenuto con un sistema misto di anticipazione parziale del bail-in ma anche di un po' di bail-out e questa discriminazione per alcune categorie di obbligazionisti era totalmente irragionevole perché nella legge austriaca si stabiliva che coloro che avevano investito in obbligazioni da una certa data in poi subivano delle conseguenze e coloro invece che avevano investito in obbligazioni prima ne subivano delle altre in maniera del tutto ingiustificata ed è questo che spinge la corte costituzionale austriaca a dire attenzione la disciplina è incostituzionale questo cosa serve allora serve che il diavolo fa le pentole non fa i coperchi ma attenzione l'aspetto diavolico sta nei dettagli la domanda che dobbiamo porci è è incostituzionale la scelta to cure del Berlin come spesso sembra quasi dire chi sostiene l'incostituzionalità o invece è incostituzionale il modo con il quale la scelta viene fatta perché può mettere in discussione effettivamente alcuni principi che hanno a che fare con le ragioni per cui il risparmio viene tutelato cioè il programma repubblicano dell'articolo 3 la ragionevolezza della disciplina la ragionevolezza nella chiave dell'uguaglianza sostanziale che è stata richiamata prima Merusi su questo gioca chiaramente ma è importante capirlo perché costituzionalità o incostituzionalità qui non è così netto e così chiaro come può sembrare e potremmo soffermarci su tanti altri esempi molto più problematica è la vicenda relativa alla costituzionalità o meno di un altro aspetto che è stato ricordato oggi è stato evocato dal professor Capriglione l'aspetto relativo alle valutazioni e alla non sindacabilità in sede giurisdizionale beh qui qui ci troviamo sì di fronte ad un problema serio la corte costituzionale prima ancora che si affermasse nel nostro ordinamento il peso forte del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale noi lo sentiamo molto più forte con l'influsso del diritto dell'Unione Europea aveva affermato in un'importante sentenza del 61 la numero 70 quindi torniamo veramente molto indietro che è incostituzionale una disciplina legislativa che limiti le capacità probatorie del giudice perché questo è il problema quindi ciò che viene stabilito in sede di valutazione è stabilito dopodiché il giudice non può in qualche modo intervenire o andare oltre la corte in quella sentenza dice questo significa di niego di giustizia una lettura forte del 24 quel 24 non è tra quelle garanzie costituzionali che almeno nella lettura costituzionale ha subito letture contraddittorie nel corso del tempo qui la nostra corte è sempre stata molto forte ora il problema qual è? che queste limitazioni alle tutela che peraltro ce ne sono anche altre per esempio vi invito a leggere l'articolo 95 del decreto legislativo 180 limitazioni circa l'impugnazione dei provvedimenti della Banca d'Italia lì ci sono delle limitazioni all'accesso alla tutela giustizionale e amministrativa che sono molto pesanti limitazioni alla tutela cautelare cioè sostanzialmente quelle disposizioni dicono che se io impugno un provvedimento della Banca d'Italia e chiedo la tutela cautelare chiedo la sospensione dell'efficacia di quel provvedimento si presume che la sospensione sia contraria al pubblico interesse questo c'è scritto in quell'articolo e questo è un po' fortino e anche questo è contrario almeno alla lettura che abbiamo dell'articolo 24 della Costituzione concordo in toto con quello che ha detto l'avvocato Fiorio circa le procedure arbitrali che non sono procedure arbitrali ovviamente ma il nome è interessante l'uso del nome è interessante perché mette in qualche modo una certa etichetta tranquillizzante una procedura contenziosa in cui qualcuno può dimostrare qualche cosa no non è vero perché quello è un procedimento amministrativo molto opaco in qualche modo che ha lo scopo di limitare alla fine un certo tipo di tutela quindi anche questo ma su oltre non voglio soffermarmi ci ho detto sulla costituzionalità secondo punto il diavolo fa anche altre pentole e prova a metterci i coperchi è stato evocato questa mattina dalla professoressa Antonucci ha ricordato esattamente il tenore del comma 854 dell'articolo 1 della legge di stabilità lo rileggo è brevissimo il decreto legge 22 novembre 2015 numero 183 è abrogato restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti sia i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge numero 183 del 2015 cosa ha fatto qui il legislatore noi avevamo il decreto relativo alle quattro banche famose quattro banche il decreto non ancora convertito a rischio di non conversione a rischio di decadenza e cosa fa allora il legislatore nella legge di stabilità decide di abrogarlo lo può fare lo può fare perché quello è un atto che ha forza di legge la legge successiva decide di abrogarlo è un'abrogazione espressa e cosa fa anticipa una cosa che il legislatore in base alla costituzione può fare riguardo ai decreti legge non convertiti cioè far salvi gli effetti del decreto relativamente al sorgere di rapporti giuridici che si fondavano sul decreto decaduto guardate formalmente questa cosa qui è legittima così come è legittimo che passi in un'approvazione come dire diabolica quasi con un colpo d'ascia all'interno dell'approvazione della legge di stabilità è la logica della questione di fiducia questa mattina si diceva ma forse non è che i regolamenti parlamentari non sono stati rispettati la discussione questa cosa è passata così e quando si pone la questione di fiducia tutto passa così beh mi immagino che tutti sappiate perché nelle leggi di stabilità c'è un articolo e centinaia di commi perché si deve votare quello in una sola volta altrimenti si dovrebbe votare ogni articolo e dopodiché la questione di fiducia che cosa fa? La questione di fiducia non si guarda il contenuto il governo dite voi dovete votare questo a scatola chiusa perché se non votate questo vuol dire che non votate beh chiuso quindi quella vicenda lì quella vicenda del decreto 183 è interessante perché si formalmente si fa ciò che era consentito anche dalla disciplina della direttiva che consentiva di evitare l'applicazione del bail-in a regime entro il primo gennaio del 2016 si fa un bail-in parziale particolare particolare e dopodiché se ne congela in qualche modo l'operatività all'interno di questa fascia temporale molto 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 stretta però qui c'è un problema sembra allora questo congelamento sembra quasi il coperchio questa volta il diavolo ha messo il coperchio e tutti siamo tranquilli e no il diavolo non ha messo un coperchio perché c'è un problemino non è forse vero che il ricorso al decreto legge in questo caso qui rivela una sorta di particolare buco di questo sistema c'è un buco nella disciplina a regime e il buco è che l'ente ponte che è stato istituito e che ha tutta la sostanza dell'ente pubblico perché questo è il punto è stato istituito col decreto chi lo deve istituire a regime nella relazione tecnica accompagnatore accompagnatore del decreto si dice il decreto legge è stato reso necessario per fare in modo che si potesse iscrivere che considerare qualcuno a livello civilistico come società lo hai dovuto istituire col decreto legge e allora c'è un problema ciò significa che ogni volta che c'è un'urgenza attenzione un'urgenza questa ordinaria perché in ogni situazione di crisi di un istituto c'è un'urgenza ordinaria è la disciplina ordinaria che prevede l'urgenza devo agire col decreto legge se voglio creare l'ente ponte e allora cosa significa che quel decreto che di per sé sappiamo essere uno strumento eccezionale diventa strumento ordinario dell'eccezionalità della disciplina a regime una cosa pazzesca cioè quello strumento lì diventa l'unico modo per consentire in termini rapidissimi la creazione di un soggetto di diritto che ha le caratteristiche di un ente pubblico altro strumento non c'è e questo è una distorsione diciamo 2.0 della violazione costante da tantissimi anni dell'articolo 77 della Costituzione singolare che lo faccia questo governo lo dico per una ragione perché nel disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi di cui sentiamo parlare sul quale già si preannuncia un referendum eccetera viene prevista una lodatissima modifica dell'articolo 77 della Costituzione che limita ancora di più ricorso al decreto legge ma come? allora noi qui abbiamo fatto esperienza adesso di un uso stranissimo e ancor più sofisticato e ancor più perverso questo sì dell'articolo 77 del decreto legge in un contesto nel quale se ne dovrà fare esperienza quasi ordinaria ma rispetto ad un articolo 77 nuovo che sancisce che queste cose proprio non si possono fare ecco quindi ecco perché la cornice si sgrettola ecco perché queste vicende fanno male al sistema nel suo complesso e poi c'è un terzo punto l'ho avvocato l'amministrazione per legge l'amministrazione per legge la chiamo perché l'esempio del decreto è un dato è un dato evidente questo decreto è un atto puntuale allora giusto per fare chiarezza sull'amministrazione per legge nella nostro assetto costituzionale si dice comunemente che non esiste una riserva di amministrazione cioè che il Parlamento se vuole può con legge fare ciò che fa l'amministrazione se vuole il Parlamento con legge può adottare atti amministrativi se vuole anche il governo con un decreto legge con un atto che ha forza di legge può fare questi atti amministrativi quindi in qualche modo questa cosa strana che vi segnalavo poc'anzi l'intervenire con uno strumento che ha forza di legge come il decreto legge corrisponderebbe ad un principio quasi generale implicito qual è il problema però? Il Parlamento lo può fare non il governo il Parlamento non il governo e non a caso in questo caso qui l'esempio ci dimostra che cosa? Che il Parlamento neanche si è pronunciato su quel decreto lo ha abrogato non si è posto il problema della conversione lo ha abrogato quindi abbiamo come dire la contraddizione interna anche rispetto ad un altro principio a quello che si può amministrare per legge lo può fare il Parlamento può fare tutti gli atti amministrativi che vuole potrebbe anche lasciare senza lavoro l'amministrazione sappiamo che non lo può fare però vi ragioni come fa il Parlamento però il Parlamento lo può fare questo il governo no e poi c'è un altro problema però dell'amministrazione per legge ammettiamo che sia possibile farlo in questo caso lo ha fatto il governo e l'amministrazione per legge sul piano poi della costituzionalità e torniamo lì allora ed ecco qual è il vero problema che ci spinge ad essere come dire proattivi sul piano del ricordo di quanto possono essere forti certe garanzie costituzionali ogni qual volta la Corte si è trovata di fronte a quelle che si chiamano leggi provvedimento sono le manifestazioni classiche dell'amministrazione per legge ha detto queste leggi si possono fare ma devono il mio scrutinio deve essere ancora più severo di quello che normalmente si ha nei confronti delle altre leggi ecco allora ecco allora che quel discorso relativo alla presenza di alcune garanzie da tutelare in ogni modo come può essere la proprietà lo risparmio torna ancora più forte torna ancora più forte perché l'attenzione rispetto ad una eccezione così forte al sistema rimerge in tutta la sua in tutta la sua forza è una cosa non tipica solo della nostra Corte Costituzionale è tipica di tutti i giudici costituzionali ma questo cosa significa che noi ci troviamo di fronte ad un quadro a regime nel quale ogni rimedio sarà sempre esposto e sarà sempre molto differito nel tempo perché questi interventi non sono immediati l'intervento della Corte non è immediato e lo stiamo verificando in tanti altri settori dell'ordinamento in tante altre materie non solo in questa ecco io ci trovo trovo che nell'esperienza della quale abbiamo tanto dibattuto oggi ci sia in qualche modo un esempio ancora più paradigmatico di tanti altri di come tutta la struttura istituzionale sia un pochino sotto stress in grande difficoltà ecco se non teniamo conto di questo vuol dire che ci accontentiamo di ragionare all'interno di un paradigma che non fa onore a nessun giurista cioè a quello per il quale il fine giustifica i mezzi e invece no questo assolutamente non va bene e le costituzioni servono a ricordarci che il fine non giustifica i mezzi grazie l'ultima brillante relazione ha riaperto i dubbi che in apertura di di questa giornata molti di noi avevano dubbi di natura costituzionale ma di impianto complessivo di questa procedura che ormai fa parte del nostro apparato normativo che dovremo osservare anche se come ci ha detto il professore è esposta a possibili attacchi anche di natura costituzionale che potrebbero rallentarne l'attivazione io qui so che ci sono due interventi programmati uno inviterei a farlo al professor Di Brina che è stato uno dei primi a scrivere sui problemi della costituzionalità di questo Berlin c'è un articolo che voi tutti potete consultare online sulla rivista trimestrale di diritto dell'economia nel quale il professor Di Brina ha affrontato molti dei problemi che oggi sono stati esaminati e li pregherei cinque minuti per quello che ha annunciato il professor Capriglione il mio non era affatto un intervento programmato anzi è stato programmato in questo preciso momento e quasi spintaneo come è è soltanto che avendo preso spunto dalla più volte citata sentenza della Corte Costituzionale austriaca che in effetti appunto ha dei profili piuttosto eterogenei rispetto a quelle che sono le problematiche che poi si sono determinate con l'entrata in vigore delle varie normative di cui ci siamo occupati durante tutto questa giornata ho voluto soltanto così sottolineare proprio questo aspetto qualcuno oggi ha parlato addirittura di marziani che sono scesi sulla terra con questa legge in effetti è una legge che per la verità non credo abbia alcun precedente nella nostra storia giuridica a partire dalla legge delle dodici tavole in avanti e consente per ragioni che sono state appunto esattamente prospettate come una legislazione di emergenza io direi quasi una legislazione di guerra perché questa è una guerra anche se non combattuta con i cannoni ma combattuta con altri mezzi di una normativa che consente all'autorità amministrativa di fare quello che probabilmente lo stesso re sole avrebbe avuto qualche difficoltà a operare nell'ambito appunto del suo stato assoluto cioè uti princeps l'autorità di vigilanza l'autorità di risoluzione per meglio dire che non dovrebbe essere la stessa autorità di vigilanza ma questo appunto è un profilo tutto sommato marginale interviene sui diritti i cosiddetti diritti soggettivi in maniera talmente penetrante da poter non solo ridurli non solo azzerarli ma addirittura convertirli questo per la verità è un potere di cui non conosco io personalmente un omologo nell'ambito appunto della disciplina legislativa né nazionale né internazionale qui bisogna tener conto secondo me di un profilo molto particolare perché appunto tutta questa normativa ci viene dall'Europa quindi stiamo ragionando di attuazione di direttive di regolamenti e quindi il profilo costituzionale che è stato appunto anche nell'ultimo intervento brillantemente illustrato deve tener conto del fatto che non siamo di fronte soltanto alla corte costituzionale italiana ma appunto addirittura agli organismi europei quindi eventuali così infrazioni a quelle che sono le norme appunto dei principi fondamentali dell'UE della carta dei diritti dell'uomo potrebbero essere sollevati sì davanti alla corte costituzionale italiana ma dovrebbero poi fare i conti con l'applicazione dei trattati quindi questo rende particolarmente complesso il discorso di carattere costituzionale comunque quello e chiudo per non abusare della vostra pazienza quello che mi pare che si dovrà appunto di cui si dovrà tener conto è che effettivamente affidare a un'autorità amministrativa il potere di intervenire in via anticipata sui diritti soggettivi modificando gli ordinamenti interni delle corporazioni delle società bancarie modificando conseguentemente appunto i poteri partecipativi modificando o azzerando l'ambito appunto dei diritti soggettivi è qualcosa di cui bisognerà veramente fare una profonda riflessione per quanto riguarda la compatibilità non soltanto col sistema italiano ma soprattutto col sistema europeo dove le norme che noi abbiamo nella Costituzione sono sostanzialmente replicate e diciamo corrispondono quasi perfettamente e quindi a questo punto io invito ecco chi dovrà riflettere in futuro anche su questi problemi di tener conto innanzitutto di questo aspetto certamente appunto qui sembra che veramente il fine abbia giustificato i mezzi perché se il fine è quello appunto di dare a queste crisi una diciamo così una incistarle diciamo in relazione a soltanto a coloro che sono interessati certamente questo è un fine che può raggiungere si può raggiungere attraverso questi mezzi però certamente questo con un sacrificio profondissimo non soltanto appunto della diciamo così di quelle situazioni soggettive che vengono incise da parte di un soggetto non legittimato almeno finora a farlo ma soprattutto qui stiamo incidendo sulla tripartizione dei poteri dello Stato perché la tutela dei diritti è una tutela costituzionalmente garantita con questi interventi con le limitazioni a cui ha fatto riferimento il professor Cortese certamente vi è un regresso della tutela giudiziaria appunto sempre per raggiungere dei fini che potranno essere sicuramente nobilissimi ma che certamente è preoccupante che vengano limitati con questa diciamo profonda incisione delle posizioni soggettive grazie adesso un altro breve però ci raccomandiamo intervento del professor Lemme io ho una domanda e spero che che mi è venuta in base alle relazioni di questa mattina quindi spero che sia stato un taglio che quindi mi rispondiate voi oppure che Filippo che ringrazio per l'invito riesca a trovare nella sua capacità aggregativa e volevo dirlo perché davvero ci sono tante persone qualcuno che mi aiuti perché leggendo il decreto 180 nell'ambito dei poteri di risoluzione di intervento in caso di Bielin ho trovato una deroga al decreto legislativo 170 del 2004 cioè in materia di garanzie finanziarie e sempre che Filippo conosce bene per averlo commentato proprio tra i primissimi su quel sito che oggi ci ospita perché semplicemente il Bielin dice che in caso di attivazione dei poteri di risoluzione si disapplica quel pegno finanziario e quella garanzia finanziaria che è alla base di tanti strumenti che usiamo ordinariamente e mi riferisco ai ripo ai contratti finanziari con scambio del sottostante e a tante altre operazioni perché se questo pegno viene disapplicato il 170 questo pegno soggiace al Bielin e quindi si cambia il profilo di rischio dell'operazione dal rischio commisurato alla garanzia ripo con sottostante BTP quindi garanzia BTP al rischio di controparte cioè il rischio che quella banca vada in Bielin sostanzialmente cambia la natura la tipologia dello strumento non garantisce più il rischio di controparte ma garantisce il rischio di regolamento ma noi che una banca adempia spontaneamente a un derivato diciamo che ce l'aspettavamo a nulla servono le spie di early termination che qualificano i contratti finanziari perché l'articolo 65,2 le disapplica cioè dice che io non posso includere uno degli eventi di diciamo intervento preventivo nel derivato per dirgli ok non scatta la garanzia lo termino anticipatamente i soldi mi li dai prima che scatta il Belin e questo è abbastanza chiaro del resto diversamente non poteva essere e l'unica spia che resta è il downgrading ma io non vorrei affidare cioè non penso che il legislatore volesse affidare alle agenzie di rating che tanto ha criticato in questi anni l'unica spia per far funzionare tutto il sistema dei ripo e se questa è una lettura condivisa si spiegherebbe anche tutte le vendite dei sottostanti di questi giorni che stanno affossando le borse quindi la mia è una domanda perché sicuramente non può essere una scelta politica quella di levare il rischio cioè la garanzia che limita il rischio di controparte quindi delle due l'una probabilmente può essere un errore tecnico o qualcosa su cui intervenire è una domanda che ci fa ancora una volta vedere quelle che sono le implicazioni io metterò tra virgolette negative di questa procedura che incide addirittura sull'ambito di operatività delle banche potendole potendolo ridurre e potendo far venire meno il riferimento a tutta una serie di operazioni che oggi comunemente fino ad oggi diciamo comunemente si sono fatte adesso una parola mi pare sì io avevo una domanda per l'amico Astone di cui ho molto apprezzato la seconda parte della relazione la prima parte non avendola capita mi formula appunto per questo una domanda Astone ha convintamente parlato di azzeramento del capitale delle quattro banche e ripetutamente io non delle quattro banche però iniziere in generale ecco però il concetto fondamentalmente uguale io so che le quattro banche nel loro concreto dell'attivo ce l'hanno tant'è che quest'attivo è stato transitato tanto poco che fosse la mia domanda è più dommatica che però nella sua carattere astratto riguarda proprio un nodo ed è questo qua appunto un attivo queste banche ce l'avevano perché altrimenti non avrebbe avuto neanche senso transitarlo alla banca nuova allora quando si parla di azzeramento di capitale di una banca questa è la mia domanda si contano nel passivo anche i depositi a vista d'accordo o non si contano perché se si contano anche i depositi il mio sospetto è che di azzeramento di capitale forse non sono le uniche quattro banche che non hanno più capitale questa è la mia domanda perché è il nodo che è forse un nodo domatico ma è proprio il concetto di esproprio che sta qua o non esproprio voglio solo aggiungere una battuta che una di quelle quattro banche avesse dell'attivo è sicuro perché c'è una perizia del professor Laghi dell'università di Roma che per quanto riguarda Carife al 30 luglio attesta che c'era un capitale di 11 milioni rotto quindi c'era giustamente il ricorso che hanno fatto al tale da quest'angolo visuale su questo non ci piove allora il punto è intendersi cosa significa per una banca capitale a zerato scusate forse sono stato io poco chiaro nella prima parte della mia relazione in realtà io ho discusso solo dell'efficacia degli strumenti solo nella terza parte ho fatto più diretto riferimento al caso italiano e ho fatto più diretto riferimento al caso italiano solo con riguardo alla diciamo così particolarmente spregiudicata collocazione di prodotti a risparmiatori totalmente inconsapevoli però la sostanza della domanda non cambia molto nel senso per te l'azzeramento di un capitale della banca quando è che c'è? no allora siccome non è importantissimo no posso solo una parola solo una parola per dire per dire che l'esistenza di un attivo cioè di che cosa stiamo parlando del patrimonio netto perché l'esistenza di un attivo qualsiasi azienda con un patrimonio netto negativo anche la Parmalat aveva un patrimonio netto fortemente negativo cioè meno x meno supponiamo 15 miliardi di euro aveva ovviamente un importante attivo che è stato veicolato nell'agnuco poi quotata in borsa oggi Parmalat Spa la domanda nello specifico è se nel passivo contano i depositi a vista o non nel passivo contano i depositi no ho capito ma quante quante sono le banche quante sono le banche allora che non hanno un capitale Aldo secondo me il bilancio della banca è una cosa complicatissima partiamo da questo soprattutto per chi come me per esempio conosce solo i numeri i numeri degli articoli ma già con le divisioni a due cifre o serie di noi dobbiamo tenere ben distinto i concetti di attivo e passivo rispetto ai concetti di utile e perdita nel bilancio della banca che è un bilancio rovesciato rispetto a quello che normalmente si pensa troviamo nell'attivo i crediti erogati nel passivo la raccolta ed è questo un primo paradosso della banca perché quando è che una banca è molto grande è molto grande quando ha una grande raccolta e dunque ha un grande debito quindi diciamo che le banche più grandi sono le banche più indebitate il che significa che nessuna banca nemmeno la più forte del mondo è in grado di reggere alla situazione in cui tutti i depositanti contemporaneamente si presenta questo è proprio il senso della domanda devo dire quindi è il primo passaggio delicatissimo e ci fa capire anche che se le banche più grandi sono le banche più indebitate e siccome il debito è fiducia è sempre fiducia io non il mio salumiere non mi consente di pagare a credito se non ha fiducia nei miei confronti allora il tema principale della banca è appunto la fiducia quindi questo è un primo passaggio che cosa succede nelle andiamo adesso all'attivo nell'attivo noi troviamo i crediti i crediti però che non devono essere ammalorati in altre parole non devono essere a sofferenza o incaglio e quindi quando i crediti della banca cominciano andare a sofferenza incaglio sorge il problema nel momento in cui l'attivo della banca comincia a subire delle svalutazioni sorgono delle perdite le quali via via erodono innanzitutto le riserve poi erodono il capitale poi erodono gli altri mezzi propri qui peraltro si innesta questa difficoltà oggettiva questa difficoltà ulteriore che a fianco della rilevanza del patrimonio netto assume di rilevanza anche il patrimonio di vigilanza senza il quale non si può andare a esercitare l'attività bancaria e il patrimonio di vigilanza è comunque un concetto totalmente estraneo rispetto al patrimonio civilisticamente rilevante quindi a questo punto nelle quattro banche che cosa è successo è successo che le svalutazioni dei crediti hanno generato delle perdite e le perdite hanno eroso il patrimonio della banca e quindi a questo punto è chiaro che continuano a esserci degli attivi è impossibile che gli attivi si siano completamente erosi come in qualunque altra società anche nella società più fallita poi troviamo più fallita di tutte diciamo troviamo uno stabilimento industriale se mai chiuso se mai abbandonato e che comunque costituisce un attivo come è successo con la pet bank del caso del Banco di Napoli che dopo 20 anni adesso pare che sono emersi tanti attivi che è andato tutto apparo vabbè è andato tutto apparo che è il passaggio del tempo di recupero poi erano 14.400 miliardi di lire che dopo 20 anni sono ritornati a bomba quindi è tutto questo ci sta a dire solo una cosa Giuseppe che i problemi sono tanti sono complessi e credo che con tutta la nostra buona volontà non li potremo chiarire nel volger di un mattino di una giornata credo che noi tutti ci dovremo rivedere ancora altre volte su queste cose e cercare tutti di fare delle riflessioni per riuscire ad arrivare ormai solo a capire perché sul latte versato non si piange più e quindi solo per avere il piacere di capire tu e di una cosa guardate su questo punto qui su cui non c'è tempo di dire nulla io mi trovo in questo momento in una situazione così diciamo dei sperimenti in provetta mi trovo a fare commissario straordinario di una banca forse sarà l'unica messa in amministrazione straordinaria dopo la crisi delle quattro e con l'entrata in vigore del Beilin gli spazi dell'amministrazione straordinaria oggi sono praticamente quasi zero perché da un lato ci sono tantissimi poteri di early intervention della Banca d'Italia che può arrivare a sostituire gli organi dall'altro come c'è un minimo sentore che potrebbero darsi perdita dovrebbe mettere risoluzione in questo angusto ambito ci si muove solo perché questa particolare banca di cui mi trovo ha un passivo molto superiore all'attivo che dimostra come il concetto sia complicato per una banca perché ha depositi e ha impieghi in una misura limitatissima quindi in realtà non è in perdita pur avendo un passivo così grande e un attivo così piccolo d'altro canto che sia tutta una questione di equilibrio e di fiducia lo sappiamo quando il sistema del fondo di risoluzione europeo entrerà a pieno regime semmai sarà e raccoglierà una massa enorme di denaro questa massa enorme di denaro dovrà essere rispetto a pieno regime pari allo 0,8% dei depositi di tutte le banche europee perciò nulla se salta la fiducia e sarà comunque una quantità di denaro enorme quello che volevo dire in un secondo in realtà è questo discorso dell'azzeramento di cui abbiamo parlato più volte sono le azioni e le obbligazioni che sono di fatta azzerate e una suggestione che è uscita fuori da alcune relazioni e in particolare dalla bella relazione dell'Avvocato Fiorio cioè se la responsabilità della Good Bank per violazione dell'aereo di condotta possa essere fatta valere questo scavalcherebbe o comunque risolverebbe indirettamente il problema della cancellazione di azioni e obbligazioni cui non si consente di potersi soddisfare sull'attivo che c'è infatti che c'è o che può esserci ma si può agire per un risarcimento da inadempimento secondo le regole generali perché le quattro Good Banks succedono alle vecchie o Rexius la loro azienda sarebbe un bel risultato ma secondo me allo stato attuale dubbio evoca una prospettiva semmai dei jure contendo perché se fosse possibile si aggirerebbe la razio del nuovo sistema che evidentemente vuole liberare la nuova banca da poste passive cioè se così non fosse le nuove banche dovrebbero appostare in bilancio un super fondo rischi e oneri perché il rischio di innumerevole azioni risarcitorie cambierebbe totalmente il loro valore di mercato con problemi ulteriori che si aggiungerebbero quelli che già ci sono per le procedure di vendita a noi mi sembra che il governo stia pensando a questo punto di vista a un fondo di solidarietà cioè ho molti dubbi che la pretesa restitutoria cancellata possa convertirsi risarcitoria per quanto in tal senso ci sono delle riflessioni interessanti anche alcune associazioni dei consumatori cominciano a muoversi cercando di ottenerlo contrasta con la direttiva ma poi e chiudo nella lista del bail-in azioni e obbligazioni vengono prima dei depositi ovvero il bail-in sia pieno cioè con azzeramento dei depositanti dove le pretese cancellate producessero un danno risarcibile avremmo un paradosso cioè azionisti e obbligazionisti potrebbero agire in via risarcitoria mentre i depositanti sopra i 100 milioni comunque quelli non coperti non lo potrebbero fare mi sembra strano a meno che non arriviamo all'idea di ritenere applicabili le regole di condotta ai depositi cosa che oggi non è possibile ma che il primo in qualche modo enunciavo come una possibile nuova frontiera il professor Lenner ha concluso brillantemente queste nostre riflessioni e noi ringraziamo tutti Filippo Sartori per questo interessantissimo incontro di oggi che ci fa riflettere anche se non ci fa rifare a delle conclusioni grazie 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 grazie